La parola a Riccardo Pietrabissa che è professore con una storica esperienza soprattutto nel settore dell'ingegneria biomedica, ha lavorato molto, anzi è stato uno degli iniziatori del tema della valorizzazione della ricerca scientifica al Politecnico di Milano, oggi è rettore dello IUS di Pavia e è presidente tuttora, non più, è stato fondatore e presidente storico di Netval che è l'associazione nazionale per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica. A lui la parola e lui vi introdurrà al tema. Grazie, grazie. Io ce l'ho, avevo chiesto anche una cosa di realtà virtuale che era più divertente. Sì, grazie, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io ho, diciamo, questo compito di far partire un po' il discorso sul tema technology transfer. Siamo partiti dal presupposto di fare una formazione un po' basic, diciamo anche perché appunto dalle cose che ho capito, alcuni di voi hanno qualche esperienza, altri no e quindi siete comunque tutti ricercatori, nel senso che siete tutti in questo momento molto centrati sulle attività di ricerca, molto spesso di laboratorio, quindi insomma, quello è il vostro ambito. Allora, il programma di questo corso è sicuramente abbastanza particolare, cioè non è frequente andare a dei corsi dove ci sono lezioni di quattro ore, solo di quattro ore, che è una roba ovviamente pesantissima per chi le fa e per chi le subisce. A questo proposito ringrazio Fabio di averci fatto occupare la prima mezz'ora che recuperiamo alla fine, quindi finiamo invece che alle sei, alle sei e mezzo. Abbiamo poi un intervallo, Marica, a che ora? 16, va bene, no perché sennò poi dopo uno muore. 16, va bene, dicevo sono quindi tre giorni di poche lezioni, questo credo che sia un aspetto interessante che potrebbe consentire laddove capitasse anche di discutere un po' su alcuni temi, perché poi alla fine questo è uno degli aspetti importanti. In particolare nei giorni prossimi ci sono delle persone, che per l'altro conosco tutti molto bene, che faranno delle focalizzazioni su alcuni degli temi importanti e fondamentali per questi processi che chiamiamo, oggi mi sembra di aver sentito chiamare generalmente technology transfer. Ok, technology transfer è un ambiente un po' ampio, vi dirò un po' di cose io, però ci sono degli strumenti e dei processi che in qualche modo devono essere conosciuti e quindi domattina ci sarà una cosa sui brevetti e non solo sui brevetti, ci sarà un po' un allargamento in generale ai diversi ambiti di tutela della proprietà intellettuale, ovviamente il brevetto è quello forse più pertinente e si parlerà molto di questo, e nel pomeriggio invece sullo strumento spin-off, che sono due strumenti ovviamente sul technology transfer in senso stretto molto pertinenti. Così come mercoledì, anche le due cose di mercoledì sono interessanti per motivi diversi, perché la mattina ci sarà una lezione su come definire le relazioni per trasferire brevetti, perché uno pensa sempre, ho questa roba qui, la vendo, ecco non funziona così purtroppo. Quindi gli ambiti di contrattualizzazione delle invenzioni, lasciatemi dire, piuttosto che di cessione in affitto, piuttosto che hanno una certa complessità, non solo nel definire come, ma anche nel definire quanto, per esempio, quanto vale una invenzione. Quindi c'è tutto il tema delle negoziazioni che secondo me è particolarmente interessante, non tanto perché voi sarete necessariamente coinvolti in questo, ma che è importante che capiate come funziona questo modello. E infine, diciamo, il brevetto come strumento di ricerca, perché un altro errore che molto spesso compiamo quando facciamo attività di ricerca scientifica, di pensare che le cose che noi facciamo non abbiano già un precursore in qualche modo brevettato. E questo purtroppo capita sempre, quindi fare una buona ricerca brevettuale, capire che la ricerca bibliografica puramente scientifica va bene per le pubblicazioni scientifiche, ma non è necessariamente quella idonea per fare trasferimento tecnologico, è uno strumento, secondo me, di grandissima utilità, di grandissima utilità e molto poco praticato. Quindi anche questi strumenti sono, quindi appunto, sono poche pillolone, diciamo, poche perché sono grosse, quattro ore, però sono i quattro, ritengo, pilastri fondamentali per comprendere un po' le opportunità, le criticità e anche saper scegliere, perché non è detto che uno debba sempre, quando c'è una cosa buona, brevettarla e farci uno spin-off. Ci possono assolutamente essere altri strumenti con cui valorizzare ciò che facciamo. Ci sono anche dei temi di etica, che secondo me è giusto considerare. In fondo la ricerca biomedica ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni di vita e il miglioramento della salute delle persone, quindi non è necessariamente sempre solo denaro. È chiaro che il denaro è utile, può essere utilizzato e speso anche molto bene, quindi questo è un po' il tema. Allora, avendo visto tutta questa roba meravigliosa che farete da domani, io mi sono posto il problema e ora, che sarei io? Quindi siccome mi è stato dato un titolo che è Innovation and the Third Mission of Public Research Organization and Biomedical Research, non l'ho deciso io, molto bello, ma non sapevo esattamente di cosa avrei dovuto parlare, l'ho cambiato, in The Role of Research to Generate Progress and Impact on Society, che è quello di cui vorrei parlarvi, va bene? Quindi mi spiace se avevate aspettative, non credo ne avreste su questa roba qui, ma insomma io parlerò di questo. Quindi qual è il ruolo della ricerca? E come vedete, le slides sono tutte in inglese, ma avendo visto che mi sembra... confermate che tutti parlate italiano? Quindi state capendo quello che dico? Perlomeno le parole, poi il senso è più difficile, perché mi rendo conto che sono confuso, però le parole le capite. Bene, allora parlerò in italiano, che mi viene naturalmente più facile, e vi parlerò di queste cose qui. Come dico sempre, interrompetevi, mi fa piacere, anche perché parlare per quattro ore è molto faticoso, quindi se mi interrompete è comunque un piacere, anche se non so rispondere alla vostra domanda, è comunque un piacere. Allora, diciamo, il titolo del corso è Research Based Innovation, cioè vorrei parlare di cosa significa fare innovazione e quindi con un riferimento al mercato, dove per me il mercato è un bene disponibile, che poi sia commercializzato, però un bene disponibile è il mercato. Cosa vuol dire? Fare innovazione partendo dalla attività di ricerca, perché non è tutto così. C'è molta innovazione che non parte dell'attività di ricerca. Le scarpe con i buchi della Geox è un'innovazione che non è partita dalla ricerca. Quindi esistono diversi ambiti per fare innovazione, noi cerchiamo di farlo, o di capire come si può fare, partendo da attività di ricerca, tra virgolette, scientifica. Già questa, ve ne parlerò un pochino, perché ricerca scientifica rispetto ai processi innovativi non è chiaramente definita in maniera univoca. Quindi se io chiedessi a qualcuno di voi cos'è la ricerca scientifica rispetto a questi processi, avete certamente una risposta di buon senso, io vorrei che avessi una risposta condivisa, che è un'altra rispetto al buon senso. E poi vediamo un po' di strumenti e di pratiche. Non vi insegnerò nulla, vi creerò qualche dubbio, vi proverò a far pensare a quello che fate. Questo è il mio obiettivo. Dopodiché domani vi diranno come fare a fare le cose. Io, diciamo, mi occupo di questo. Quindi vorrei mettere, come si dice, insieme ai puntini e cercare di legare queste cose rispetto a un processo che deve creare valore. Guardate, quando dico creare valore, per me il valore può essere misurato col denaro, può essere misurato col benessere, può essere misurato col progresso. Quando dico valore, è qualcosa che migliora. Allora, ah no, è questo sopra. Dunque, quindi i tre passaggi sono dalla ricerca allo sviluppo, all'impatto nella società. E guardate che voi sapete che in molti ambienti si dice ricerca e sviluppo, no? R&D, ricerca e sviluppo. Ecco, io l'ho sempre considerato un obbrobrio perché ricerca e sviluppo sono due cose diverse. Quindi chiamare, un certo volte si vede, no, ricerca personale per la ricerca e sviluppo. Non so cosa voglia dire, perché ricerca è una cosa, e sviluppo è un'altra. Questa è, la ricerca produce conoscenza, lo sviluppo produce applicazioni, quindi soluzioni, e l'impatto produce mercato, cioè disponibilità per la società di beni e servizi che in qualche modo possono migliorare le qualità della vita. Allora, io vi faccio vedere anche alcune cose che richiamano, diciamo, anche alcuni studi che sono stati fatti su questi temi. Io non sono, come si dice, uno scienziato di processi di economia dell'innovazione, di innovazione sociale, innovazione tecnologica. Ho sempre fatto il bioingegnere, e poi ho sempre fatto un po' un mestiere di manager, diciamo, delle università nella mia vita. Però, chiaramente, occupandomi di queste cose, mi sono imbattuto in alcune ricerche, alcuni studi, e quindi ogni tanto vi parlerò anche di questo. Questo è una rappresentazione che porto, perché poi rimane nella testa e quindi può essere utile, una rappresentazione per quadranti di quali sono le possibili ipotesi del ricercatore e dell'innovazione, facendo, diciamo, una rappresentazione in cui in Ascisse abbiamo il livello di innovazione di un'attività, che ovviamente aumenta rispetto alla novità prodotta da innovazione basata su prodotti o servizi, mentre questo è la ricerca scientifica il cui livello varia con la quantità di nuova conoscenza, cioè cose che prima non erano note e poi sono note, anche se la loro conoscenza non produce necessariamente alcun prodotto. Allora, rispetto a questo, ci sono nei tre quadranti di riferimento alcuni casi evidenti, questo utilizzato Einstein come esempio della ricerca fondamentale, fondamentale, basic, lasciatemi dire apparentemente inutile, no? Cioè il matematico che immagina una fisica di cui nessuno ha esperienza, perlomeno quando è stata fatta, questa cosa era considerata, forse anche discutibile, ma comunque certamente molto lontana da qualsiasi tipo di applicazione, la considero ricerca scientifica pura. La cosa interessante è perché? Perché Einstein di fatto, come probabilmente molti di voi sanno, iniziò a lavorare in un ufficio brevetti, no? Quindi lui faceva il ricercatore puro, ma sapeva tutto dei brevetti, tanto che questo qui è un brevetto di Albert Einstein del 1926, quindi aveva già vinto il premio Nobel fra l'altro, che è un brevetto che descrive un'invenzione legata a un frigorifero, quindi una macchina frigorifera, con un ciclo, chiaramente parliamo di termodinamica, quindi fisica, e come vedete lui, insieme a Leo Zillard, che era un altro fisico suo coetaneo e collega, che avevano già venduto, assegnato a Electrolux, cioè a loro questa roba non interessava, ovviamente, perché è roba molto pratica, quindi lo scienziato puro ama fare la ricerca, ama capire, non è interessato alle applicazioni. Questo è proprio il caso strano che lui sapeva tutto di brevetti e quindi scrisse questo brevetto e dice non mi interessa, Electrolux e via. Questo invece è il caso opposto, Edison, come immagino sappiate, è stato probabilmente il più grande, il più prolifico inventore della storia, ha depositato oltre 1400 brevetti nella sua storia, ha inventato tutto quello che gli veniva in mente potesse essere utile, fra cui alcune cose anche, diciamo, complicate, perché la lampadina, che oltretutto oggi è il simbolo dell'idea, l'innovazione è la lampadina. Questo è il brevetto, la prima pagina del primo brevetto della lampadina di Thomas Edison, che è del 1880. E qui c'era un'idea interessante, fra l'altro lui è il primo che ha sostanzialmente inventato le fibre di carbonio, perché faceva le lampadine con un filo di seta, di quello che c'aveva, chiaramente duravano pochissimo perché si bruciavano subito, finché poi riuscì a fare il filo di tungsteno, però poi fece il filo di carbonio, cioè continuava a migliorare questa roba, e comunque Edison, General Electric, è la sua società che negli anni è cresciuta, quindi non solo era un inventore, è stato uno start-up paro di grande successo. Lui non aveva basi di conoscenza scientifica, era uno che era in grado di risolvere problemi pratici, problemi pratici, a forza di prova, 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 con intelligenza ovviamente, riuscì a fare delle robe straordinarie. E poi c'è il nostro caso pregiato, voi, che è Louis Pasteur. Louis Pasteur, chimico sostanzialmente e un po' biologo, era professore in Francia, accademico di Francia, lui scoprì casualmente, ma scoprì casualmente perché faceva quello, che delle reazioni chimiche potevano essere modificate rispetto alle previsioni dalla presenza di alcuni microorganismi. E qui dice, guarda che stanno, metto lì due piastre di petri con sopra delle robe, in una è sporca e quell'altra è pulita, quella sporca ha delle reazioni diverse, produce cose diverse. Quindi cominciò a studiare questo, vide il ruolo dei batteri che all'epoca di fatto non erano studiati ne conosciuti e, diciamo, si sviluppò grazie a lui quella che oggi si chiama microbiologia. Quindi lui è considerato il fondatore della microbiologia, però la cosa interessante, perché vi racconto questo, è perché lui non fu soddisfatto dall'aver capito che esistevano dei microorganismi vitali, viventi, che erano in grado di modificare o di innescare reazioni chimiche altrimenti non esistenti, ma cercò di capire a cosa potesse servire questa conoscenza. E l'applicazione che gli venne era quella della conservazione degli alimenti. All'epoca c'erano le navi che partivano e viaggiavano per mesi e c'era un problema di come conservare gli alimenti, mangiavano la carne secca, eccetera, eccetera, il vino andava male dopo su e lui inventò e brevettò una serie di macchine di cui questo è un brevetto di Pasteur, non mi va, neanche lì, e eccolo, sì, torna indietro, questo è un brevetto di Pasteur di 1873 sulla pastorizzazione della birra, quindi riuscì a trovare un modo per conservare gli alimenti eliminando i fattori che potevano produrre naturalmente e diventò molto ricco fra l'altro, eh, Pasteur. Oggi questa la chiamiamo pastorizzazione perché lui era Pasteur, lui non la chiamava pastorizzazione perché, insomma, era lui stesso, insomma. Ecco, questi sono i tre casi. Ci piacciono tutti e tre, perché ci piace sia l'inventore geniale che ha le idee straordinarie, ci piace lo scienziato che fa lo scienziato e ci piace questo. Però su questo noi possiamo investire, nel senso che ci fa piacere l'idea di finanziare o di sostenere della ricerca il cui ricercatore abbia anche curiosità di capire le possibili applicazioni della sua ricerca. Perché in fondo non è un ambito esclusivo, ribadisco, ci piace anche lo scienziato puro e ci piace anche l'inventore puro, però su questo probabilmente riusciamo a essere un pochino più incisivi. Per questo dico questo è il vostro caso. Voi siete il nostro Pasteur di turno. Allora, come funziona il meccanismo? Guardate, noi normalmente lavoriamo in questo ambito. Questo ambito cosa dice? Dice che per fare della ricerca sono necessari, diciamo, delle condizioni, quello chiamati asset della ricerca, insomma, chiamatele come vi pare, che sono il know-how. Voi studiate e leggete le pubblicazioni scientifiche, quindi avete una conoscenza che nel vostro specifico hanno in pochi percentualmente, quindi è un know-how che portate voi e probabilmente avete accesso a infrastrutture, laboratori, centri di ricerca, cioè qualcosa che vi consente di portare un po' avanti la conoscenza. Quindi tipicamente quella che chiamiamo conoscenza incrementale. Questa è la ricerca che cosa produce? Non sempre, ma auspicabilmente, produce risultati che sono nuova conoscenza. Nuova conoscenza. Ho capito una roba che prima si intuiva ma non era chiara, ok? Ho scoperto che un certo, una certa molecola ha certe funzioni, vi discorrendo. Bene, il nostro mestiere è quello di pubblicare queste attività, questi risultati, spiegare come li abbiamo ottenuti e questo arricchisce ancora l'asset della comunità scientifica. Quindi è un meccanismo che si auto esalta, si auto esalta e chiaramente consente di sviluppare conoscenza. Il valore di questa attività è un valore di carattere scientifico, va bene? Questo è buono? Sì, è buono, ok? Dovrebbe essere l'investimento in ricerca è questo. La domanda è ma alcuni di questi risultati possono essere utili, dove utile non è utile alla comunità scientifica che continua a lavorarci sopra, che è certamente unitità, ma utile per fare qualcos'altro. Allora, probabilmente la relatività ristretta e generale di Einstein all'epoca non era utile. Poi magari elaborando questa qualcuno è riuscito a fare, che so io, le fibre ottiche e le trasmissioni. Oggi si parla di computer quantico, no? Però insomma, ecco, non credo che sia immediatamente percepito che grazie a Einstein domattina Sony venderà computer quantici, non è questo. Quindi siamo in grado invece di immaginare questa cosa? Allora se siamo in grado l'idea è che ci possono essere dei... mentre questa attività abbiamo chiamato ricerca, questa attività la chiamiamo in qualche modo trasferimento di conoscenza, trasferimento di tecnologia, poi vedremo che differenza fa, per generare un impatto che qui chiamiamo progresso, nuovi prodotti, nuovi servizi, cioè qualcosa che sul mercato possa migliorare le condizioni della gente. Perché c'è un telefono che funziona meglio, perché c'è un farmaco che gli consente di trattare una malattia, perché c'è un cibo più sano, quello che ti pare, insomma, potete tutti immaginare qualcosa. Ecco, questo processo qui l'abbiamo chiamato innovazione, che quindi non ha a che fare con la ricerca, ha a che fare con l'uso dei risultati della ricerca. Guardate, non è la stessa cosa, eh? Un conto è la ricerca, un conto è l'uso dei risultati della ricerca, e che questo ha un nuovo valore, un altro valore, che è un valore che possiamo misurare in termini economici, sociali, industriali, quello che vi pare. Comunque altri valori, non scientifico. Questo introduce un concetto di cui non parlerò oggi, e cioè che non ha senso mettere in confronto le pubblicazioni, per esempio, con i brevetti. Qualcuno dice, ah, ma i brevetti possono essere utili per far carriera. Non c'entra nulla. Questa è attività scientifica, io misuro la capacità di fare ricerca e di fare, diciamo, accademia. Qui misuro la capacità di trasferire questa cosa. È una cosa importantissima, ma è un'altra cosa, ok? È un'altra cosa. Allora, normalmente, quando qui vedete, RO sta per Research Organization, eh? Quindi Research Organization è un università, un ente di ricerca, Human Tech, Research Organization. E qui Pub sta per pubblici. Allora, nei centri di ricerca pubblici, che siano università o altri enti, è sempre stato, old, che si cercava al cento per cento di fare ricerca scientifiche e ottenere pubblicazioni scientifiche. Fino a, guardate, vent'anni fa, eh, l'esigenza che uscissero ricadute di innovazione da questo era zero. Il commitment, il commitment delle governance era zero, ok? Io ricordo nel, credo l'ho cercato da giorno, perché se fosse nel 2003, andai a fare una conferenza alla Società Italiana di Fisica, perché invitato dal Presidente, sui temi brevettare all'università e fui attaccato da tutti dicendo, ma, ma, che siete mati? Perché dovete brevettare la ricerca scientifica? Quindi è zero, zero. Oggi non è più così? Oggi si dice, tu devi fare sempre ricerca scientifica, questo è il commitment, cento per cento. Cioè non fai queste cose per altro, lo fai per ricerca scientifica, ma attenzione che qui deve esserci un X maggiore di zero. E questo, vedremo dopo, non dipende necessariamente dalla ricerca che fai, ma dalla tua capacità di valutare i tuoi risultati. Quindi di nuovo, lasciamo indipendente la ricerca, però quando c'è un risultato cerchiamo di capire se quel risultato può essere utile o no. Quindi voi siete quelli che dovete, diciamo, ipotizziamo, fate ricerca scientifica di qualità, ma vorreste capire se ciò che fate può essere utile e se è utile può essere trasferito, in che condizioni, con che vantaggio, con che obiettivo. Nei research organization privati, normalmente è così, il privato finanzia perché vuole quella che chiamano ricerca, ricerca del centro di ricerca Fiat, la ricerca del centro di ricerca Ebracco, cioè non è che vuol capire il mondo, vuol portare a casa innovazione, quindi questo è il cento per cento, l'obiettivo è quello. Dopodiché, ben venga che ci siano anche pubblicazioni scientifiche, questo dà quella che noi chiamiamo reputation, no? Però non è l'obiettivo, quindi attenzione, gli obiettivi sono diversi. Allora, ora io vi racconterò alcune cose di queste parole, che sono parole che tutti noi usiamo e conosciamo, ma vorrei contestualizzarle, che sono ricerca, innovazione, conoscenza, impatto, valorizzazione, mercato, denaro, bla 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 bla. Vabbè, sono messe un po' lì a caso, ma ora ve le racconto. Allora, comincio con ricerca, innovazione, conoscenza e denaro. Ricerca, innovazione, conoscenza e denaro. Perché qui c'è molta confusione, allora dovete sapere che da, ormai sarà, quanto sarà che i cellulari fanno anche le foto e registrano dieci anni? Ma non tanto di più, non tanto di più. Ok, quindi col cellulare io oggi posso fare delle interviste, è evidente questo. La prima volta che ebbe in mano uno di questi oggetti, mio, eh, mio, che faceva, registrava, andai a un congresso di questi ambienti dove si parla di innovazione, eccetera, eccetera, e quindi diciamo, persone esperte, e ho raccolto, e ce l'ho, eh, cento interviste in cui ho chiesto di dire in meno di 20 secondi cos'è innovazione. Cioè io vengo da te, te sei un altro esperto di innovazione, se ti dico, guarda, ti do un minuto per pensarci, poi definisci innovazione in 20 secondi, ma cosa sai dire tu? Perfetto. Ne ho cento tutte diverse. Ok? Tutte diverse. Per cui evidentemente manca un po'. Poi se dice a uno, guarda, lui ha detto quello, sì, anche però, cioè, è una parola molto, molto difficile. Allora, io ne ho scelta una di queste, che è quella che ho fatto mia, e che è quella che ha definito questo signore, questo signore si chiama Jeff Nicholson, è stato vicepresidente della 3M Corporation, 3M, una delle più grandi multinazionali del mondo, che opera nel settore materiali, nelle materie prime materiali. Lui ha fatto un dottorato di ricerca all'Imperial College, da ragazzo era un chimico, ha fatto un dottorato con un signore, un professore, che poi ha vinto un premio Nobel, quindi è stato sicuramente esposto molto all'attività di ricerca di qualità nel settore della chimica. Poi è andato in 3M, ha fatto carriera, a ciò punto aveva 2.500 dipendenti sotto di lui, quindi ha un personaggio importante, e è stato quello che ha gestito il progetto Post-it. Il progetto Post-it, come sapete, penso, è uno di quei casi che si raccontano, no? Perché il Post-it è una colla che non incolla, quindi ha fatto sta colla, faceva schifo, buttiamola via, diciamo, no, aspetta, no, potrebbe essere utile a qualcos'altro. Già questo è un passaggio importante, no? Cioè, ottengo una roba che non volevo, e invece di buttarla via, dico, a cosa potrebbe servire una cosa così strana? E gli viene in mente questa roba qui. Dopodiché, marketing, tutto quello che volete, però, di fatto, il Post-it è un oggetto che ancora oggi tutti usano il Post-it, tutti no, io a me non piace, ma tutti lo usano. Quel colore giallino, insomma, vabbè. Allora, questo signore ha fatto una conferenza all'Imperial College nel 2007, se non sbaglio, in occasione dei cent'anni del Dipartimento di Chimica, l'hanno invitato, e lui ha fatto una conferenza che si chiama, eh, 2007, il cui titolo era Innovation e Survival Issue, e la trovate su YouTube, lui proprio all'inizio dice, ragazzi, io sono stato qui dottorando come voi, ho fatto un dottorato in chimica, poi ha lavorato sempre in una multinazionale, eh, dice, una cosa ho capito e che dovete imparare anche voi. Chi è questa? La ricerca è la trasformazione di denaro in conoscenza e l'innovazione è la trasformazione di conoscenza in denaro. Cioè, l'idea che sta dietro a questa roba qui è che non esiste un mondo povero in cui si fa innovazione, si fa ricerca di qualità e non esiste un mondo ignorante in cui si fa invece, eh, innovazione. Cioè, l'innovazione si basa sulla capacità di fare ricerca, la capacità di fare ricerca si basa sulla possibilità di avere denaro per fare ricerca. Ok? Altrimenti fai l'inventore, benissimo, esiste quella, ma non è quella che possiamo finanziare. Questo tema della, diciamo, della generazione di questo meccanismo, no? Ricerca produce conoscenza, conoscenza produce innovazione, innovazione produce denaro e denaro produce ricerca. È un meccanismo interessante perché mette sullo stesso piano ricerca e innovazione e conoscenza e denaro. Cioè, di fatto, attribuisce alla conoscenza valore economico, no? In un meccanismo che, nel caso in cui questo meccanismo sia positivo, ovviamente il denaro ti consente di aumentare la conoscenza, la conoscenza di aumentare il denaro e quindi diventa un meccanismo in cui ricerca e innovazione si scambiano valori in un processo, diciamo, come diceva prima lui, di sistema. Di sistema, no? Quello che alcuni dicono, sentirete quando sentire parlare gli economisti dell'innovazione, dicono ecosistema dell'innovazione. Ecco, questa qui è la sintesi poi dell'ecosistema dell'innovazione, cioè un meccanismo di stimolo continuo. Questa cosa, che credo abbiate capito perché non è difficilissima, no? È abbastanza chiara, è una cosa che peraltro invece trova sempre abbastanza ostacolo e credo che sia importante cominciare a dialogare con le parti. Ve lo dico perché questa cosa qui io l'avevo raccontata, qui racconto un aneddoto personale, a un convegno come avevano invitato, io terminai, devo parlare di spin-off, terminai il convegno, cioè la mia relazione era subito prima del coffee break. Termino, vado al coffee break, al coffee break ero in coda per il mio caffè, mi fermò un signore, dice ciao Pietro Bissa, guarda sono un collega, era un professore universitario, conoscevo, ciao mi presento, fra l'altro là, dice guarda mi è piaciuta tantissimo questa relazione che hai fatto su questo tema, mi è piaciuto molto questo sistema di innovazione, ricerca, dice però non me lo sono appuntato, me lo ridici un attimo perché non me lo ricordo precisamente, volentieri, ma te cosa ti ricordi? E lui si ricordava questo, la ricerca produce conoscenza, l'innovazione usa conoscenza, cioè l'unica cosa importante è la conoscenza, quindi noi, senza di noi, loro non fanno niente, noi ho detto no, guarda, è che ricerca è trasformazione di denaro in conoscenza e innovazione, ah vai, me lo segna, poi mi rimetto in coda, mi fermo un altro, dice guarda io sono un imprenditore qui del territorio, mi è piaciuto molto, mi volevo segnare esattamente la stessa cosa, dico ma va bene, ma lei cosa si ricorda? E lui si ricordava la ricerca consuma denaro, l'innovazione produce denaro, ok? Allora sono tutte e due vere, ma ognuno vede sempre solamente, guarda senza di mente non fai nulla, senza di mente non fai nulla, ecco, questo è uno dei nostri problemi, problema di sistema, eh? L'imprenditore dice scusami io caccio i denari e voglio indietro, cioè il resto non fatti tuoi. Per esempio è difficilissimo far pagare la conoscenza che uno ha già, io guarda che io sono uno che sa un sacco di cose, cioè tu solamente avere accesso al mio laboratorio è un valore, noi dobbiamo creare il valore, percepire il valore, poi te lo posso anche regalare, ma non perché non vale, perché ho deciso che lo faccio pro bono. Invece la presunzione è che tanto tu, eh, ti paga lo Stato, no? Parlo però no. Vabbè, quindi questo è un punto importante. Ricerca, innovazione, conoscenza e denaro. È chiaro? Proceed. Impatto, valorizzazione, mercato, technology transfer, progresso, prodotto. Questo è un po' più complicato, ma è più semplice, lo vedete, è una sciocchezza. Allora, il presupposto qual è? Il presupposto è che noi abbiamo questi due elementi, la ricerca e il progresso. Ricerca non l'ho ancora definita, lo farò fra poco, progresso lo definisco come qualcosa che migliora le condizioni di vita, qualunque se siano, eh? Anche il gioco piacevole, qualsiasi cosa. Le vacanze, insomma, ecco. Progresso. Allora, il tema è che noi abbiamo ritenuto e riteniamo che la ricerca migliori le qualità della vita e quindi sia uno dei fattori importanti per il progresso. Diamo questo assunto, diamo questo assunto. E guardate che laddove il progresso si misura in denaro, cosa che possiamo discutere e anche dissentire, ma molto spesso il progresso si misura in denaro, per cui sono i paesi più progrediti, sono quelli che hanno il PIL più alto e quelli in via di sviluppo no. Laddove c'è più denaro, c'è più ricerca. Quindi ci sono degli elementi anche, diciamo, su cui si può discutere che la ricerca e riconoscere che la ricerca è migliore progresso. La domanda è, ma il progresso se ne rende conto che è la ricerca e quindi in qualche modo restituisce denaro? No? Cioè, qui non c'è conoscenza e denaro, ma avete capito che in qualche modo c'è. Ecco, questa linea è tratteggiata perché non è così evidente, ok? Non è così evidente che ciò che noi oggi apprezziamo nella nostra vita quotidiana può essere stato originato da ricerca scientifica. E quindi molti dicono, ma perché devo pagare la ricerca? Io ho bisogno del cellulare, ho capito, ma il cellulare l'avresti senza? Ecco, non è così facile, diciamo, descrivere, documentare e anche quantificare questi processi. Allora, normalmente sono richiesti altri due passaggi, che sono questa che abbiamo chiamato innovazione, cioè prendere non la ricerca, ma i risultati della ricerca, quelli che possono essere trasferiti, fare dell'innovazione, quindi generare sviluppo e prodotto e avere un mercato di riferimento su cui erogarli alla società. Quindi il passaggio a questo punto diciamo che è questo, va bene? Ricerca, innovazione, mercato, progresso. E che abbiamo due strumenti, uno è il knowledge transfer, knowledge transfer, diciamo, come grande sistema del technology transfer. Qui, scusate, faccio una piccola digressione. Con technology transfer normalmente si intende il trasferimento di qualcosa che è di sua natura tecnologico, quindi che è passibile di un processo industriale di fabbricazione. Mentre con knowledge transfer è qualcosa che ha a che fare con la conoscenza e quindi col saper fare certe cose, sapere certe cose, che non è necessariamente un aspetto di carattere tecnologico. Tutto questo però nasce dalla ricerca scientifica. E poi c'è ovviamente il denaro. Il denaro che se il mercato esiste, esiste anche un denaro. Non necessariamente perché è prodotto dal mercato, ma è prodotto dal sistema mercato progresso. Allora, in questa cosa noi abbiamo, i tre passaggi sono comprendere, quindi fare ricerca per aumentare la conoscenza. E qui la conoscenza è la conoscenza della natura e quindi dei fenomeni naturali nei vari ambiti, fisica, biologia, chimica, quello che vi pare, e la conoscenza dell'uomo, dell'uomo nel senso dell'essere umano come soggetto sociale, non necessariamente come soggetto biologico. L'applicazione di questa conoscenza rispetto a prodotti, servizi e tecnologie, e l'impatto, cioè la misura del beneficio che si ottiene, che si ottiene da questa attività. Questi qui sono gli strumenti, quindi noi qui dovremmo parlare di strumenti. Ok? Il technology transfer non è un obiettivo, è uno strumento. Il denaro non è uno strumento, ma è uno strumento. Non tutti condividono, ma però vorrei che si pensasse questo. Questo è un libro che ha descritto molto bene, è questo tipo di processo, si chiama la tripa elica, ormai tripa elica, sempre per quelli che si occupano di economia dell'innovazione, è un po' un fondamento, e dice sostanzialmente che noi abbiamo questi tre soggetti, l'università che fa ricerca, l'industria che fa innovazione, la politica che definisce le regole del gioco, e se questi tre lavorano in un interesse comune, la ricerca trasferisce all'industria innovazione, l'industria trasferisce denaro attraverso le tasse allo Stato, e lo Stato ha delle regole di investimento nella ricerca, quindi allarga un pochino il concetto, ma sempre questo concetto è. Qui guardate che c'è un ambito di responsabilità, responsabilità di chi fa cosa, cioè l'università, la ricerca, scusate, pubblica, che non è responsabile dei propri risultati, perché perché non ha, non è capace di capire se questi risultati possono portare a un beneficio, pecca secondo me di irresponsabilità, e quindi giustifica per certi versi la riduzione dell'investimento. Ma non perché il risultato non serve, ma perché quando serve non se ne occupa. Public-private, qui entro in un concetto devo dire un po' diverso, molto universitario, scusate, questo è molto universitario, ma credo che possa essere utile per comprendere. Se voi chiedete a persone che vivono in altri ambienti, che fanno altri mestieri, eccetera, che cosa fa l'università? Che cos'è un'università? Guardate, praticamente tutti sanno che all'università ci si ci si laurea, è cosa nota. Molti la considerano scuola, una scuola. Qualcuno mi dice quanti alunni hai all'università? Alunni, alunni è scuola elementare, io ho degli studenti, allievi, però questo concetto della scuola è molto molto vago. Che faccia ricerca si sa ma poco. Io ricordo una sera quando avevo i bambini piccoli, venne a casa mia un capo scout, li invitavi a cena, gli dissi faccio professore universitario, questo mi guarda, dice, studente universitario, dice ma scusi, ma lei cosa fa oltre la lezione? Cioè pensava che uno va a lezione, quelle 60 ore, 100 ore e poi si gira i pollici. Ecco, uno studente universitario. Ma è così, cioè non necessariamente tutti sanno mai, ma scusate, vi siete mai domandati cosa fanno nelle banche il pomeriggio quando schiudono lo sportello a mezzogiorno? Cioè non è che stanno lì tutti a casa, ci hanno fatto tutto quello che hanno raccolto la mattina, questa roba. Allora, se noi facciamo queste cose, molto spesso questa roba anzi è fatta, perché la maggioranza delle università in Italia sono statali, quindi siamo finanziati dallo Stato. Non mi interessa tanto o poco, ok? Questa è l'idea. Cioè uno Stato sovrano finanzia un sistema di formazione superiore e di ricerca universitaria. Bene. Dopodiché ci possiamo domandare perché la società dice, benissimo, la società sono le istituzioni, i territori, le famiglie, le industrie, dice benissimo, ma questa attività, che cosa produce nel paese? Cioè qual è il valore che viene estratto da questa attività? Siamo in grado di quantificare qual è il valore che deriva dall'esistenza di noi e delle attività che facciamo in aula, in laboratorio, andando ai congressi, perché poi alla fine è lo Stato che paga. E lo Stato sono le tasse dei nostri concittadini, no? Ora lo Stato si chiama nazione, scusate, da un po' di tempo si chiama nazione. E allora io ricordo, dunque sapete che ora si ritorna a parlare di flat tax. La flat tax è una cosa che dice, benissimo, si pagano delle tasse tutti uguali, costanti, eccetera. Va bene, supponiamo, questa cosa già nel 2018 era uscita nel tempo elettorale e l'idea all'epoca era di dire che le tasse erano uguali per tutti e si discuteva se era 15 o 20 per cento, ti ricorderai, 15 o 20 per cento. Ora devo dire, io personalmente ci guadagno sia sul 15 che sul 20 per cento, ma anche ci guadagni. Quindi non posso dire che sono contrario personalmente. Mi mette se le tasse al 15 per cento io, cioè, divento ricco, va bene? Per cui non è questo il punto. Il punto è un altro. Io andai a un congresso e facevo il chairman quel giorno, no? C'era un po' di gente, tutti industriali, era in Zambon, tutti industriali, mi facevano fare un po' di interviste, io chiedo ai presenti, io sentite, c'è in discussione questa cosa della flat tax, supponiamo 20 per cento, se no 20 per cento. Allora io vorrei proporre due ipotesi. Una, invece che 20, fare 21 e destinare quell'1 per cento alla ricerca del paese. Oppure fare 19 e togliere quell'1 per cento dai finanziamenti alla ricerca del paese. Voi cosa penserete? Tutti, ah, 21, 21, ci guadagnano tutti, no? Cioè, tutta la gente paga il 43 per cento. Se voi, secondo voi, se facessi invece un sondaggio nazionale a tutti, cosa sarebbe, quale sarebbe la risposta? Tutti mi dicono 19. Ok? Allora, questo, secondo me, è un problema importante. Perché non è colpa di mia o colpa loro, è che non hanno capito a cosa serve la ricerca scientifica. E quindi preferiscono risparmiare l'1 per cento di tasse che dare soldi a chi fa ricerca scientifica. Ci sarà un perché. Io credo che sia colpa nostra, non colpa loro. Va bene? Sono, anzi, un convinto che sia colpa nostra. Dove nostra non siamo necessariamente io e voi, eh, attenzione. Nostra vuol dire un certo ambito che prende delle decisioni e non le prende, secondo me, in maniera giusta. Allora, cosa c'è qui in mezzo? Dunque, qui in mezzo, perché dico questo? Perché se fosse chiaro qual è il valore, ma anche la società sarebbe disponibile a partecipare al finanziamento. E probabilmente l'1 per cento in più dicono, ma perché no? In fondo, guardate che le charity che lavorano nel settore delle delle malattie, i soldi li portano a casa. Ma perché riescono anche a far capire che quelle, quei 2 euro che metto lì, piuttosto che i 10 euro, servono per salvare la vita, ti fanno vedere uno in carrozzella, uno in letto. No, è così però, è importante, no? E noi cosa facciamo a vedere? Lui che studia il cuore artificiale, sì, ma poi, no? Allora, questo modello, qui c'è questo buco, questo buco siamo, e le cose dobbiamo fare noi, ovviamente. Queste cose dobbiamo fare noi? Ecco, sono un po' superiori a quella che abbiamo chiamato trasferimento, perché trasferire, si può trasferire quando c'è qualcosa di trasferire, e questo qualcosa deve essere selezionato, perché non tutto ciò che produciamo si può trasferire, bisogna essere capaci di selezionarlo, e molto spesso di trasformarlo, perché non è detto che tu lo trasferisca laddove pensi originariamente di trasferirlo, magari hai un'idea, hai una conoscenza nuova, che potrebbe essere utile da un'altra parte. Quindi questo processo è molto più complesso di dire ah, guarda, ho trovato un materiale che quando lo attacco si illumina, no? L'attacco alla corrente si illumina, figata, no? Allora ci faccio la lampadina, magari no, magari ci faccio un sistema d'allarme che, non lo so, ecco, bisogna essere in grado di selezionare, trasformare e trasferire. Il valore di questo non è sul trasferimento, ma sulla capacità di selezionare e di trasferire. Quindi di migliorare, di elaborare, selezionare, trasformare e trasferire. Anche qui vi dico un piccolo aneddoto, mi è capitato qualche anno fa di andare a fare un corso sul trasferimento tecnologico in Ecuador, eh? L'Università Equadoregna ci hanno invitato, tipo questa roba qui che facciamo in Human Technology, poi siamo andati a fare un corso di trasferimento tecnologico in Ecuador. Ci hanno portato a visitare una piantagione di cacao. Sapete che l'Equador fa il cacao, no? Cioccolato, Equadoregna, invece. No, queste piante me le vede di cacao, bacche di cacao, favi di cacao, piene di cacao, e ci regalano del cioccolato fatto col cacao ecuadoregno. Cioccolato fatto in Ecuador. E ci raccontano, dice, vede, noi facciamo il cacao, siamo i più grandi produttori di cacao del mondo, ma i soldi ce l'hanno sempre fatti gli svizzeri, perché loro comprano il cacao e fanno il cioccolato. E noi vendiamo il cacao a zero e loro vendono il cioccolato a cento. E gli hanno detto, ma perché non ce lo facciamo noi il cioccolato? Lo sappiamo selezionare, impariamo a trasformarlo, vendiamo il cioccolato. Ecco, l'idea è proprio questa. È inutile continuare a vendere un prodotto della ricerca che è quella nostra pubblicazione scientifica. Quella roba lì non serve in quanto tale. Serve se noi siamo in grado di capire che quella cosa che è scritta lì dentro può essere trasformata per fare una cosa che serve. E non vale sempre. Ci sono molte cose che è difficile trasformare in qualcosa che serve, ma ci sono tante che invece è possibile e non lo facciamo. Ok? Quindi selezionare e trasformare è il vero valore di questa roba qui. Dopodiché si può trasformare, si può trasferire. Ok? Ma non si trasferisce il risultato della ricerca, ma quello selezionato e trasformato. Questo è un passaggio che vi diranno in pochi, però tenetelo presente perché vedrete che servirà. Su questo c'è una ulteriore, siccome il titolo originale della mia lezione era third mission, fra virgolette, c'era un third mission, fra virgolette, no? Perché fra virgolette? Non l'ho messo io, però... perché non esiste third mission. L'hanno inventato all'Hanvur. Se voi andate in qualsiasi paese e dite noi ci occupiamo di third mission, cos'è la third mission, no? All'altro si chiama impact o valorization. Noi l'abbiamo chiamata third mission e qui c'è proprio il concetto sbagliato. Io faccio anche un po' di policy, proprio il concetto sbagliato di come viene interpretata il sistema della ricerca e dell'onestà nel nostro paese da chi dovrebbe interpretarci. Chi è questo? Allora, queste qui sono quelle che appunto sono le cosiddette missions per l'Hanvur. Prima e seconda, perché comunque anche questa è prima e seconda, terza. Allora, loro le chiamano così, la prima e la seconda sono quelle tradizionali e invece la terza è quella nuova, la nuova missione dell'università. Allora, io dico, attenzione, ma è possibile generare impatto senza fare formazione e ricerca? Guardate che anche la formazione, cioè la produzione di laureati, di dottori di ricerca, crea un impatto nella società. Non lo sto quantificandolo, dico crea un impatto nella società. Allora, è possibile generare impatto senza fare queste cose qui? No, ovviamente, no? Se tu hai dei prodotti scadenti o non fai prodotti, non generi impatto. Quindi la quantità e qualità di impatto deriva necessariamente dalla qualità e dalla quantità di prodotti dell'educazione e della ricerca, tramite, abbiamo detto, la selezione e trasformazione e trasferimento. Allora, questi qui, se è così, questi sono strumenti, non sono missioni. Ma perché la missione è fare ricerca? Cioè, la missione non è fare ricerca. Fare ricerca è lo strumento con cui fare progredire il paese. Perché se torniamo a quella di prima, ricerca è progresso. Il mio obiettivo è il progresso. Poi dici, fai la ricerca che ti pare, libero, libero, libero. Però attenzione che se trovi qualcosa di utile devi generare il progresso. Quindi la proposta è dire, questi sono strumenti e questa è la missione. Quindi la missione è questa. Ok? Perché se voi prendete in un altro ambito, l'ambito industriale, tu dici, io sono un produttore di automobili, mi chiamo Fiat, ma mi misuro su quante automobili produco e non su quante automobili vendo? Non ha senso. È chiaro che se l'automobile fa schifo, ne posso produrre quante ne vuoi, ma nessuno le comprerà mai. Così come se ne faccio automobili di gran qualità, se anche ne faccio poche, le vendo tutte. Quindi la misura è su questo. Dopodiché non ti preoccupare che auto faccio, le vendo tutte. Ok? Qui ho introdotto un altro concetto in maniera un po' subdola, che è che a questo punto io pretendo autonomia e libertà a fare questo. Io voglio fare la ricerca che mi pare. La mia responsabilità è lavorare per trasferire quando la ricerca ha un potenziale di creazione di valore nella società. Questa è l'etica, secondo me, della ricerca e di chi finanzia la ricerca. Libertà e autonomia, ma impegno sulla responsabilità a trasferire. Perché questi sono strumenti, io voglio usare gli strumenti come mi pare, impegnandomi a trasferire il risultato per il benessere della società. Allora, tornando ancora sul tema cos'è ricerca e cos'è sviluppo, l'ho criticato all'inizio, il tema research and development. Allora, ricerca, nella mia, diciamo, ipotesi, quindi nell'ambito di questa chiacchierata, ricerca è rispondere a una domanda di tipo scientifico, quindi di tipo di conoscenza, che può essere perché il cielo è blu, è utile sapere perché il cielo è blu, non mi viene in mente nessuna applicazione immediata, no? Per cui sia utile. Come, perché l'esercizio fisico aumenta la massa muscolare? Cos'è il calore? Cioè, tutte domande che l'uomo si è fatto, no? Perché oggi sappiamo perché il cielo è blu e sappiamo cos'è il calore, però di per sé, voglio dire, non è. Mentre lo sviluppo è affrontare un problema pratico, come curare un paziente col coronavirus, come chiudere una bottiglia, tappare una bottiglia di champagne, come ridurre le emissioni di un motore, che sono domande pratiche. Io ho un problema, voglio risolvere quel problema. Un problema pratico, devo fare una cosa e non sono in grado di farla. Allora, qual è quindi la differenza? La differenza sta nel tipo di domanda e nel metodo che si usa per trovare la risposta. Perché questa produce conoscenza e in qualche modo l'ambito finale è la dimensione della scienza nella sua interezza e globalità. produce conoscenza. Quest'altra invece produce soluzioni. Produce soluzioni. Quindi devo avere un problema. E determina quella che chiamiamo esperienza. Non è necessario essere scienziati per produrre soluzioni. Non è necessario essere scienziati. Un ingegnere che costruisce un oggetto che funziona. Non è uno scienziato. Magari non produce nessuna conoscenza. Produce però una soluzione che rientra nell'esperienza, nel sapere come si fanno le cose. Questi due mondi, che sono così come lo rappresentati fra loro divisi, divisi, possono però avere dei punti di contatto interessanti. E cioè, quando affronto un problema pratico, può darsi che non abbia sufficiente conoscenza per risolverlo. E quindi può darsi che io debba basarmi sull'esperienza, ma anche, scusate, ma anche fare riferimento alla conoscenza scientifica. In molti settori, in molti settori, il progresso nella soluzione di un problema richiede nuova conoscenza scientifica. Ok? Richiede nuova conoscenza scientifica. E questa nuova conoscenza scientifica può essere stata creata indipendentemente, per cui dice, guarda, che lui ha pubblicato un articolo, abbiamo scoperto che le celle fotovoltaiche, no, fatte invece che col silicio, fatte con cosa, hanno un'efficienza superiore. L'ha fatto uno scienziato, io che produco cose, risolvo il problema di aumentare l'efficienza delle mie celle fotovoltaiche. E può essere invece sviluppata ad hoc, dico, devo migliorare, no, e c'ho un mio centro di ricerca, quello che dicevo prima, il Private Research Organization, che invece fa ricerca per trovare una soluzione che migliora, migliora la qualità di un prodotto rispetto a un problema pratico. Quindi questa attività può essere, ribadisco, richiesta e può essere spontanea. In ogni caso, laddove la scienza rientra in un ambito di esperienza e produce nuove soluzioni, evidentemente questo passaggio è il passaggio che abbiamo detto, aumenta il pregio, il valore della nostra attività di ricerca. C'è un ulteriore aspetto interessante che differenzia la ricerca scientifica dalla ricerca per trovare una soluzione, di cui poi tornerò brevemente dopo con un altro aneddoto, che è questo. Normalmente la nuova conoscenza indipendente, che nasce in maniera indipendente dal problema che va risolto, perché possono esisterci, possono esistere sicuramente delle ricerche che capiscono delle cose che non sono state cercate per risolvere un problema. Ecco, in questo caso è possibile che tu possa trovare più ambiti di applicazione e che per ciascun ambito di applicazione tu possa trovare prodotti. Quindi c'è una potenzialità di diversificazione straordinaria. Ma immaginate quando siamo riusciti a mettere a punto una lega che si chiama acciaio inossidabile, cioè prima il ferro si ossidava, l'acciaio inossidabile, ti viene in mente una quantità enorme di prodotti che possono essere fatti con l'acciaio inossidabile. Se uno avesse il brevetto dell'acciaio inossidabile non sarei qui a farevi lezione. Mentre invece se te trovi come fare la forma di questo cellulare, hai fatto la forma di questo cellulare, le scarpe con i buchi sotto i piedi, Geox ha fatto le scarpe con i buchi, non è che puoi farci poi chissà che, non è che ci faccio le pentole a pressione piuttosto che le gomme delle automobili, insomma no, hai fatto quella roba lì. Sono delle invenzioni che rimangono in quanto tali, mentre queste le scoperte scientifiche possono avere ricadute in tanti ambiti, quindi hanno un valore potenziale straordinario. Bisogna pensarci però, bisogna pensarci. quindi avere la capacità di selezionare, trasformare per trasferire. Su questo c'è un altro aspetto importante che in questa filiera, dalla conoscenza all'ambito applicativo al prodotto, dopo vi citerò il caso del laser, no? Il laser, voglio dire, è una roba evidente, è evidente che oggi con il laser facciamo una quantità enorme di cose. Dalle fibre ottiche alla lettura dei codici a barre dei supermercati, in mezzo, quant'è il puntatore, questo qui, capito, laser. Cioè, oggi con quella cosa lì, uno che ha scoperto alcune proprietà della luce, ci si fa il mondo. Ma non è così scontato, perché quando quello lì ha scoperto le proprietà della luce, non è che aveva in mente cogi sciabbarre dei supermercati. Proprio non esisteva neanche i supermercati. Quindi, gli ambiti applicativi ci vuole comunque sia una certa, diciamo, fantasia. Allora, quella scoperta, in quanto tale, è talmente prematura che è difficile darle un valore. Quanto può valere il laser inventato negli anni Sessanta? Non c'era nessuna applicazione possibile con quella roba lì. Va bene? È chiaro? Oggi, senza il laser, tante cose non le riuscivo neanche a fare. Allora, quando tu sei qua, c'è un tema di ritorno degli investimenti legato al time to market. Cioè, quanto io penso che possa valere questo mio investimento in questa ricerca rispetto a quando riuscirò ad avere un ritorno sul mercato? E se c'ho davanti 50 anni, capite che non ci investe nessuno? Nessuno? Allora, man mano che tu sei, più sei qui, più sei lontano dal ritorno degli investimenti e il time to market può essere lungo. Non è sempre così, eh? In alcuni settori è più breve, in alcuni settori è più lungo. Però, mediamente, a parità di settore, questo è il punto più lontano. E se tu vuoi provare a trasferire questa roba, 90 su 100 non ce la fai. Devi andare un pochino qui, per cominciare a capire. Perché questo, ovviamente, aumenta l'investimento, in termini di denaro necessario, il rischio, per chi lo assume, e il potenziale valore, potenziale, perché tu dici compro proprio il seme, compro il grano, col grano ci faccio dalla torta paradiso, alla focaccia, al pane, no? Però devo sapere che ci posso fare sta roba, perché se no, cosa me ne faccio? Del grano? Ok? Quindi, attenzione, che a noi piace molto questa cosa qui che abbiamo capito. Guarda, poi avevo scoperto che questo farmaco... Però, attenzione, siamo in grado di sapere che questo signore è in grado di farci un prodotto, che... quant'è il rischio, quant'è il tempo. Ecco, la nostra valutazione spesso è più passionale che concreta. Dobbiamo fare molta attenzione. company, startup, spin-off, patent. Allora, l'idea è questa. Noi facciamo della... qui lasciate parlare il termine a public. Noi facciamo della ricerca e vi dirò a breve perché. Perché ci piace. A brevissimo l'ho detto, immediatamente. A perché ci piace. Vi riferirò su questo a breve. Cosa vuol dire perché ci piace? Dopodiché supponiamo che abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, no? Questo qualcosa di nuovo noi dobbiamo in qualche modo esplicitarlo, eventualmente proteggerlo con un brevetto, se ne identifichiamo un'applicazione e cercare di acquisire il brevetto. Il brevetto, ne parlerò alla fine del corso, della lezione, è sostanzialmente una proprietà. Cioè io ho comprato una cosa. Ho comprato una cosa. Quindi ho una proprietà sulla possibile applicazione di questa scoperta. A questo punto che ci faccio? Ma lo posso licenziare sul mercato? Cioè trovare qualcuno che vuole investirci? Io glielo licenzio, glielo posso vendere, glielo posso dare per royalties, eccetera. Normalmente è richiesta appunto un'integrazione con qualcos'altro, perché il brevetto molto spesso nostro è modesto. E questo comunque sia, ha una ricaduta importante sulla ricerca, perché ho fondi per la ricerca, ho partnership con anche, diciamo, soggetti industriali che mi possono aiutare per la proof of concept, insomma, tutta una serie di passaggi. Quindi la licenza è il punto chiave. Un brevetto che non licenzio non vale niente. Ok? Neanche il costo. Oppure mi faccio la mia cosiddetta startup. La startup ha un grosso vantaggio e che io ci porto dentro anche il know-how. Perché nella startup ci vado io, che sono quello che sa come si fa fa quella roba. No? Mentre quando lo vede da un altro, lo vedevo anche insegnarglielo. Lì ci vado io. Chiaramente ho bisogno a questo punto un po' di denaro, un accesso al mercato. Vado sul mercato, anche qui, diciamo, ho un beneficio di altro tipo, ma sulla attività di ricerca. Ecco, questa cosa qui è il mondo del privato. Il mondo di quelli che sono sul mercato, che investono denaro per portare a casa denaro. Ok? Cioè, dobbiamo sempre pensare che un'impresa, industriale o altro tipo di impresa, è una società di capitali che fa un'azione se e solo se il guadagno è superiore al costo. Perché? Deve essere remunerativa. Ok? Questo è il principio fondante, non è da giudicare. È così. Ok? Se non fai, se non fai utili, questa chiude. E quindi questo deve essere. Il tema vero è, ma che tipo di utili fai? Ecco, a noi fa piacere pensare che se parte da della ricerca, da della conoscenza che gli diamo noi, l'utile che ne deriva, comunque sia, deriva dal fatto che tu hai fatto un benessere alla società, che hai fatto uno sviluppo economico, che hai fatto competitività per le imprese. Cioè, l'idea è che ci sia dietro, comunque sia, loro devono fare denaro. Noi dobbiamo garantirci che quel denaro abbia una finalità, che è quella che noi abbiamo messo nella nostra ricerca. Questo è un aspetto su cui non tornerò più, che ha a che fare con l'etica del trasferimento tecnologico, che però è un valore, secondo me, molto importante, su cui è opportuno riflettere quando si fanno queste cose. Quindi il brevetto è uno strumento estremamente potente, perché impedisce ad altri di fare qualcosa. E allora quando io do a qualcuno uno strumento che può impedire ad altri, devo garantirmi che lo faccia per il bene della società. Altrimenti do uno strumento, come sapete, gli strumenti non esistono buoni e cattivi. Esiste l'uso buono o cattivo degli strumenti, questo vale anche per i brevetti. Quindi se ho un brevetto e lo cedo, devo cederlo, secondo me, questo è il mio parere, devo cederlo con una finalità che io condivido. Per esempio uno che ha un brevetto e lo tiene nel cassetto perché ha un altro business impedendo ad altri di utilizzare quell'invenzione, io non credo che sia eticamente corretto. Mi darà anche dei soldi, ma mi darà dei soldi per privare e non per favorire. Quindi attenzione, il brevetto è un bellissimo strumento, va saputo utilizzare. Allora, supponiamo di avere un problema. Il problema in questo momento per me è semplicemente una domanda. Il problema può essere un problema scientifico, perché il cielo è blu, può essere un problema pratico, come faccio a ridurre i consumi o le emissioni di un motore a combustione interna. Ho un problema. Allora, il problema, diciamo, cerca una soluzione. Come si fa? Non sempre si trova una soluzione ai problemi, come sapete voi che fate ricerca. Credo che qualsiasi ricerca che voi state facendo, il vostro obiettivo è trovare una risposta a una domanda. In alcuni casi è una soluzione a un problema, in altri è semplicemente una risposta a una domanda. Alcuni chiamano curiosità. Non è necessariamente curiosità, è proprio voglia di capire le cose. Allora, la soluzione può derivare da diverse, diciamo, modalità. Una è quella di elaborare ciò che già si sa. Questo è quello che fa tipicamente l'imprenditore, no? Cioè, devo costruire delle finestre che hanno una tenuta superiore, vado in giro a cercare magari la gomma migliore. Cioè, non faccio ricerca. Faccio elaborazione di ciò che è noto per produrre una cosa nuova, mescolando in modo diverso le cose nuove. È una roba da chef questa qui, ok? Lo chef ha gli stessi ingredienti ma fa una roba diversa. Ok? Non è che inventa la farina 00 piuttosto che... No, però è in grado di trasformarla in maniera intelligente. Oppure ci può essere la capacità di utilizzare cose che non si sapevano prima e che si sono sapute da poco facendo ricerca. La ricerca, guardate, possiamo averla fatta noi, potremmo averla fatta qualcun altro, ma noi apparteniamo a quella comunità che è in grado di capire i risultati della ricerca e non magari i risultati di un'altra ricerca. Quindi questo è il mondo, se volete, dell'imprenditore che guarda solo i problemi e questo è il mondo di chi invece studia e fa ricerca e che sa cose che non sono ancora utilizzate. Talvolta questa roba qui porta addirittura a inventare nuovi problemi, eh? Mentre in quel caso lì è più raro, quello di sopra è abbastanza facile. Che io improvvisamente invento una cosa di cui nessuno aveva bisogno, semplicemente perché ho scoperto delle cose, dico, ma guarda, con questo potrei fare questo? Dici, ma chi se ne frega? Però si potrebbe fare, proviamo, si fanno cose nuove. Anche questo vi farò un piccolo esempio. Allora, diciamo che... Supponiamo che il problema sia un problema tecnico. Cosa vuol dire un problema tecnico? Un problema che richiede una soluzione tecnica, cioè di messa insieme di cose, no? Per essere risolto. Se il problema è tecnico, la soluzione si chiama invenzione. Ok? Quindi perché uno abbia una invenzione, deve avere una soluzione di un problema. Per questo la ricerca in quanto tale non si può brevettare. Perché la ricerca in quanto tale può essere la soluzione, ma io devo aver identificato il problema. Se no, la soluzione non la posso brevettare. Su questo torniamo brevemente alla fine, però è un passaggio indispensabile per capire quello che stiamo facendo. Io non posso brevettare una soluzione se non ho definito esattamente qual è il problema. E vi dirò di più, che se io brevetto una soluzione per un problema, la posso ribrevettare identica per un altro problema. Ok? Quindi l'invenzione è sempre la soluzione per un problema. Io devo partire dicendo, questo tavolo non sta in piedi perché le gambe... invento una soluzione e ci metto dei paletti diversi. Ok? Ma devo dire qual è il problema. Il paletto diverso non lo posso brevettare. Questo è uno dei problemi quando vogliamo brevettare i risultati della ricerca, perché in quanto tali non sono brevettabili. Mi devi dire a cosa serve. Poi scopro che serviva anche un'altra cosa e l'ho anche divulgato per quella prima e non per la seconda. Quindi attenzione, warning. Io ho un'invenzione solo se ho un problema tecnico di cui ho trovato la soluzione. Guardate che in alcuni casi la ricerca mi fa inventare il problema di cui quella è la soluzione. Non l'escludo. Non è che deve esserci per forza a priori il problema tecnico. Io posso trovare una soluzione senza avere il problema e poi invento il problema di cui quella è la soluzione. Allora ho l'invenzione. Allora l'invenzione può essere brevettata. Ok? Il brevetto protegge solo le invenzioni. Null'altra cosa. Quindi protegge solo le soluzioni e i problemi tecnici. Non potete brevettare altro. Deve essere. Poi non tutti i problemi, non tutte le soluzioni ai problemi tecnici sono brevettabili. Ma condizione necessaria per dire posso fare un brevetto è ho la soluzione di un problema tecnico, ovvero so qual è il problema e so qual è la soluzione. Sì. Allora hai fatto un'invenzione. Se hai un'invenzione la puoi brevettare. E diciamo l'invenzione di fatto riguarda in generale prodotti, servizi, cioè cose che puoi in qualche modo toccare, che hanno a che fare con la tecnologia e questi ovviamente incidono e battono sul mercato. Questa che qui abbiamo individuato è la ricerca scientifica, che sviluppa nuova conoscenza. Questa è la ricerca tecnologica, che invece elabora conoscenza già nota, che si può fare anche nell'università ma si fa principalmente nelle imprese. E questo è il mondo dell'impresa, che può essere, qui l'ho citato spin-off perché è un caso particolare di un'impresa, è un'attività di spin-off. Ok, questo è il macromodello. Allora, ora, è chiaro a tutti? Seguite? Volete farmi delle domande? No? Sì? No? Siete d'accordo? Allora, io cerco sempre di dire delle cose che gli altri sanno già, ma ve le dico senza che voi, cioè vi faccio, spero di farvi arrivare a livello consapevole cose che sapete ma di cui non avete consapevolezza. Ok? Per questo normalmente siete d'accordo, perché eravate già, vi ho detto una cosa che sapete già, il cielo è blu, siete d'accordo, ma è banale. Quello lo sapevate, alcune cose che vi sto dicendo invece non tutti le avevano a livello consapevole, mentre però erano note. La consapevolezza è ritengo che sia un passaggio importante. Allora, sono partito da questo, ricerca scientifica. Avevo detto, vi dirò cos'è ricerca scientifica. Questo anche spero che lo sappiate, è un pochino però più tricky, come si dice. Allora, io chiamo ricerca scientifica quella che si fa nell'ambito delle discipline. Ok? Quindi faccio microbiologia cellulare, faccio fisica dei materiali, faccio giurisprudenza nel diritto civile. Discipline. Perché le discipline hanno dei metodi, hanno delle regole, hanno il loro bagaglio di conoscenza. Verticale. Cosa produce la ricerca scientifica? Produce, scusa, la ricerca. Produce modelli. Questo è il passaggio. Conoscenza vuol dire modelli. Dici, che vuol dire? Ora te lo spiego. Allora, noi abbiamo, diciamo, ci piace molto classificare, categorizzare, differenziare. Queste sono tutte parole che se andate sul nostro esperto Wikipedia vi trova sempre. Quindi, blue sky, curiosity driven, fundamental, basic, applied, finalized, scientific, technological, experimental, theoretical, cioè, è tanta roba, è tanta roba. Cos'è che ha di comune questa cosa qui? Il metodo, qualcuno potrebbe dire, il metodo. Io, a me oggi fa piacere immaginare che ci sia invece l'obiettivo, il risultato, scusate, il risultato che è lo stesso. C'è anche il metodo, ma il risultato mi interessa di più, perché il risultato è quello che dobbiamo trasferire. Il metodo non lo trasferiamo, il risultato sì. Allora, guardate questo. Wikipedia. Allora, questa definizione, ci piaccia o non ci piaccia, però c'è un punto interessante. Lui dice, è una ricerca che non ha, a priori, quando la faccio, quando la svolgo, una evidente applicazione. Cioè, non la faccio perché voglio trovare la soluzione al problema, la faccio perché voglio capire delle cose, indipendentemente da quale sia la possibile applicazione. In domains where the real world applications are not immediately apparent. È chiaro? Chiaro? Quindi io la dichiaro, in maniera provocatoria, ma concreta, inutile. Inutile. Cioè, non è prevista l'utilità. Inutile. Allora, dice, è giusto fare cose inutili? Allora, application is not a motivation for researchers, but can be among the consequences. Cioè, il fatto che sia inutile, a priori, non vuol dire che io, alla fine, non abbia capito delle cose che possono essere utili. Cioè, non è che voglio che sia inutile, attenzione. Non la faccio per una utilità, ma se trovo un'utilità, cioè, a questo punto spreco una cosa. È chiaro il concetto, prima vi ho detto, vi ho detto libertà e autonomia e responsabilità. Allora, se io pretendo di fare la ricerca che mi pare, devo anche essere responsabile che se ho trovato delle cose che hanno un potenziale di utilità, io le restituisco. È un tema di restituzione di valore. Questo. Application is not a motivation, but can be among the consequences. Qui il grandissimo, grandissimo Richard Feynman, di cui vi consiglio di leggere i libercoli perché sono divertenti. Premio 9 per la fisica. Vedete, è un godereccio, no? È un godereccio. Premio 9 per la fisica nel 65. Si dice che dicesse, sì, ma non importa, facciamo finta che l'abbia detto davvero. Si dice che dicesse questo. La fisica è come il sesso. Certamente può dare alcuni risultati pratici, ma non è per quello che lo facciamo. È chiaro? Questo lo ricorderete, immagino, che poi di tutte queste robe l'universo si ricordano è Feynman, è così, è così, lo so, per questo momento, almeno vi ricordate Feynman. La fisica è come il sesso. Allora, cos'è il modello? Questo è un aneddoto carino che... ho letto su un libro, ma poi l'ho trovato ovunque perché ho scoperto che è una roba molto nota. La conoscete questa storia di Gauss? Dite di no, per favore. La conoscete? Grazie. È come quando mi racconta le barzellette, no? Ti dici, ah, la so, ma che vale. Diti no, perlomeno. Cinque minuti, fai finta di non saperla. Quindi, mi raccomando, dite che non l'avete mai vista. Allora, chi è Gauss? Gauss è questo signore qui che stava sulle banconote da dieci marchi quando esisteva ancora il marco, che ora si chiama Euro, sapete questa banconota qui. È stato un... sostanzialmente un matematico, un matematico che ha vissuto a cavallo fra il 700 e l'800, tedesco, personaggio molto burbero e strano. All'epoca chi faceva matematica era anche astronomo, fisico, insomma, è considerato uno dei geni della storia e lo chiamano il principe della matematica. Allora, si racconta questo aneddoto che quando Gauss aveva nove anni, quindi faceva le scuole, le equivalenti di nostre scuole elementari, primary school, quello che è, lui viveva, era figlio di un pastore protestante, viveva in un paesetto della Germania, da allora, che non si chiamava Germania, era ostro-ungarico o quel che era, insomma, andò a lezione una mattina in classe, scusa, in aula, e il maestro, che aveva delle cose da fare, disse, bambini, vi do un esercizio, risolvetemi questo esercizio. E lui immaginava che l'esercizio avrebbe impegnato i bambini per parecchio tempo, due ore, tre ore, no? E che esercizio gli dà? Questo. Fatemi la somma dei primi cento numeri interi. Capito? Tutti lo sanno fare. Cioè, sai come si fa a farlo, no? Fai uno più due, tre, più tre, sei, più quattro, dieci, più cinque, quindici, e vai avanti. È chiaro che quando i numeri cominciano a diventare grandi, cominciano a diventare più difficile, più facile sbagliare, poi non avevano il cellulare per fare i conti, no? Avevano il foglio, la penna, che non avevano la penna neanche, insomma. Quindi, magari ci mettevano due ore, no? E sbagliavano anche. Tranne uno, Gauss. Il quale Gauss dopo cinque minuti va, maestro ho finito. Bacchettata, allora si usava, no? Non è possibile, prendi in giro, come hai fatto? E dice, ma ho fatto, ho fatto, dice. E dice, quanto fa? 5.050. Come hai fatto? Lo sapevi già? No. Come hai fatto? Ah, dice, guardi, maestro, ho visto che se noi scriviamo gli stessi cento numeri in ordine inverso e li sommiamo per colonne, fa sempre cento uno. Chiaro? Togli uno, aggiungi uno, fa sempre cento uno. Per cui basta moltiplicare cento uno per cento e dividere per due. Ok? È chiaro? Anche a quelli che non sanno la matematica? Non è difficile, no? Dopo, dopo, dopo. Non è difficile. Dopo. Ah, e quindi lui ha risolto questo problema. La domanda che io pongo, ma questo è un nuovo metodo per risolvere una somma o un nuovo problema che lui si è posto? Perché se io ti dico fai questa somma, tutti noi facciamo uno più due, più tre, più che nessuno si mette a fare, ma ragioniamo. Perché? Perché noi lo sappiamo fare. Cioè non è che lui mi ha detto, mi ha insegnato come si fa a farlo. Io lo so fare. È chiaro? Non mi ha insegnato come a farlo. Lui si è posto un altro problema. Come faccio a farlo in fretta? Che è un'altra domanda. E gli altri non sapevano farlo in fretta, ci mettevano delle ore. Quindi lui non ha trovato un nuovo metodo. Si è posto un altro problema. È qui che sta un po', se volete, il trucco nel capire a cosa serve ciò che io faccio. Perché se noi continuiamo a andare sui stessi binari, questo è quello che si chiama pensiero laterale, no? Sui stessi binari io trovo sempre la stessa roba. Allora, fin qui ci siamo. Va bene? Penso che fosse abbastanza chiaro. Ora, la cosa interessante di questo è un'altra. E' questa. Questa soluzione è generalizzabile. Cioè questa sommatoria, che dice la sommatoria di n da 1 a i, a 100, è uguale a, vedo qui, 1 per i diviso 2. Qualunque sia i. Non solo, ma posso anche farla tra a e b. Quindi io posso fare la somma dei numeri interi da 3.728 a 14 miliardi con questa focazione qui. Un attimo ci vuole, un secondo. Ok? Quindi qui dov'è la cosa che mi preme che si capisca? Questo è un problema. Questo è un nuovo metodo e una soluzione. Questa è la sua generalizzazione. Cioè io ho utilizzato questo per capire una cosa. E è quello che si fa tutti i giorni in laboratorio. Io faccio un esperimento. Quella soluzione dell'esperimento non vale per quell'esperimento. Vale per tutte le cose di quel tipo. Cioè io ho scoperto come funziona una cosa facendo un esperimento. In alcuni casi devo farne tanti gli esperimenti per fare le verifiche. In questo caso, essendo matematica, è più diretto perché basta uno, te lo dimostri per sempre. Questo si chiamano teoremi. Quando hai dimostrato trema, è finito, no? Non è come le altre, sono ipotesi, studiamo. Quindi questo è. Cosa ha generato lui? Ha generato un modello che si applica a tutti i casi di questo tipo qui. Ecco, nella ricerca scientifica noi troviamo modelli. Nella ricerca tecnologica troviamo soluzioni che si applicano a quel caso. Punto. Quello che ha fatto i buchi sotto le scarpe. È quello lì. Una cosa geniale. Ha fatto soldi a palate. È quello che vi pare. Ma è quello lì. Questo invece non ha risolto nessun problema reale, se non il suo di farsi bacchettare le dita dal maestro, ma ha trovato una roba che oggi si usa in tutti i computer quando fai, so, devi calcolare delle matrici di numeri e usi sta roba qui, perché se no più grande la matrice più ci stai. No, è uguale. È indipendente dalla dimensione. È chiaro? Quindi per me, e quindi vorrei che voi recepisse questo, la ricerca scientifica deve generare modelli. Cioè la conoscenza non è relativa a quella cosa che facciamo, ma quella cosa che facciamo è un modello di un sistema di conoscenza della natura, in questo caso. Lo sapevate? Sì. Se avessi chiesto, avessi potuto rispondere? No. Ok? Conoscenza. Perché lo facciamo? Ah, questo deve essere finanziato dai soldi pubblici, eh? Non c'è nessuno che vi finanzierà per fare modelli privati. Le imprese vogliono soluzioni di robe pratiche. Senza soldi pubblici questa roba non si fa. Ci sono sempre le eccezioni. Le eccezioni esistono sempre. Le eccezioni esistono sempre. Io non parlo per eccezioni, parlo per banale norma. Quindi questo è. Possiamo avere motivazioni scientifiche, voler risolvere anche un problema, come ha fatto Gauss. Gauss ha risolto un problema. Il maestro ha detto risolvi questo problema, lui l'ha risolto. Però non è se è fermata la soluzione. Per curiosità si dice, eccetera. Cosa produce questo? Produce una conoscenza che potremmo voler trasferire per delle, cinque allora, ricerca scientifica è indipendente, cioè non sono interessato a qualcosa che mi dice fallo perché mi serve. Disciplinare, finanziata con denaro pubblico. Questa è la mia definizione oggi delle caratteristiche della ricerca scientifica. Indipendente, disciplinare, finanziata con denaro pubblico. La domanda è, è utile? Quando è utile? Come può essere utilizzata? Allora, queste domande non sono mai domande che dobbiamo porci prima, ma dobbiamo sempre porci durante e dopo. Ok? Non domandatevelo prima. Siate liberi, ma dimandatelo durante e dopo. Perché se per caso vi sfuggono queste domande avete prodotto addirittura un danno. Ok? Un danno di investimento. Questo è il caso che vi dicevo prima. Pensate, Planck definisce la legge delle radiazioni nel 1901, Einstein prende il premio Nobel e poi nel 17 definisce, usa la parola Maser che è un particolare tipo di laser. Ci sono diversi premi Nobel qui dentro, Kastler nel 66, finché arriviamo a Maiman che peraltro lavorava in un'industria Bell Laboratories che nel 60 costruisce il primo laser allo stato solido. Quindi riesce a utilizzare un materiale per produrre luce coerente sulla base di tutta sta roba qui. 60 anni di attività di ricerca inutile, nel senso che non sapeva anche farci questa roba, eh? Però era, era, gli piaceva l'idea, come dice, come il sesso, no? Ti piace. Quindi riesce a costruire questa roba, questo è sempre lui e questo è uno dei suoi primi brevetti del 67, in cui, in cui fa vedere come si fa a costruire un, una sorgente di luce laser. Quindi non ha inventato il laser, perché non puoi inventare il laser, ha inventato luce, ha inventato un oggetto, quindi qual è il problema? Come faccio a generare un laggio laser? Costruisco sta affare qui. Ok? Sempre il problema. Il problema è come faccio a costruire un laggio laser partendo da energia elettrica? Con questo affare qui. Brevetto. Questi sono i brevetti per decadi, prima degli anni, che avevano la parola, che hanno la parola laser o nel titolo o nell'abstract. Prima degli anni 50 non esisteva la parola laser, negli anni 50 5, poi vedete anni 60, ta 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 ta, nella prima decade degli anni 2000, 170.000 brevetti dentro laser. Ora voi capite che evidentemente siamo veramente a conoscenza ancora totalmente embrionale, perché con questa roba qui si possono inventare 170.000 invenzioni diverse che usano il laser. Capite com'è esplosivo, no? Quindi se tutte queste facessero riferimento a questo brevetto, come brevetto dipendente, chiaramente questo qui potrebbe essere miliardario, nel frattempo è morto e questo è. Quindi c'è una capacità di sviluppo della ricerca fondamentale straordinaria, se se ne può, si immagina. Queste sono tutte applicazioni possibili da healthcare, sicuramente conoscete un sacco di applicazioni del laser in medicina, alla fotonica, sensori, imaging, lavorazioni meccaniche, tutto questo è ibridato con altre tecnologie. Cioè, chi si occupa di laser non è in grado neanche di capire le applicazioni ormai, perché sono molto distanti dalla fisica basic che c'è dietro. Allora, qui abbiamo della conoscenza da trasferire, a questo punto dobbiamo capire qual è il problema che può affrontare o il bisogno che può aiutarci a risolvere. E se noi abbiamo della conoscenza e abbiamo presente un bisogno potenziale, anche molto distante dalle discipline originali, possiamo partire in una fase di sviluppo di una soluzione. Questa qui non è più per disciplina ma per progetti. Il progetto non ha più una disciplina, ha un problema che deve risolvere. E la soluzione, si arriva a avere delle soluzioni. Delle soluzioni. Di cosa? Di questo problema utilizzando la nuova conoscenza. È una fase, questa qui successiva, in cui normalmente c'è un finanziamento sia del pubblico che del privato. Perché c'è qualcuno che ha interesse a questo punto. Abbiamo perso l'indipendenza, ma qui non ci deve essere indipendenza. Io sono dipendente dal dire, voglio trovare quella soluzione. A questo punto, se mi funziona la soluzione, devo trovarla, devo essere indipendente di applicarla. Quella che è tutta la fase a questo punto di ingegnerizzazione, prove, prima qualcuno parlava fasi di sperimentazione, nel caso di un prodotto per la salute e quant'altro. E le applicazioni generano produzione e mercato, cioè ricaduta, verso prodotti, servizi, mercato e in qualche modo l'impatto sulla società. Questo normalmente è finanziato da denaro privato. E qui c'è qualcuno che investe per portare a casa dei margini e degli utili da distribuire agli investitori. Questo è il percorso un po' banale, se volete, ma è il percorso. Chiudo, prima del vostro intervallo, dicendo che questi sono i tre elementi. Ricerca scientifica, problemi possibili della società e l'impatto come soluzione dei problemi con la nuova conoscenza. Ecco, questo richiede che tu in qualche modo abbia comunque una visione un po' del mondo in cui si vive. Guardate, molti ricercatori vivono in un mondo un po' isolato, no? Il che nulla ha a che fare con la qualità della loro ricerca. Però, attenzione, non possiamo più permetterci di vivere in questo modo. Dobbiamo, secondo me, avere un'idea anche della possibile utilità laddove la trovassi. Allora, raccontavo questa storia che è la storia del telefono. Allora, sapete che sul telefono c'è tutta la Kerel, chi l'ha inventato per primo, no? Meucci o Bell. Poi, insomma, gli americani hanno detto sì, è vero, l'ha inventato prima Meucci. Però il Sodici l'ha fatto Bell. Meucci è morto, poveraccio. E Bell ha fatto la Bell Company. E ha fatto i soldi. Allora, questo non ci interessa. La storia che vi racconto è questa. Questo qui è una foto che ho trovato in rete di un primo telefono, non so, sarà stato uno dei primissimi telefoni, di Alexander Bell. E quando lui inventò il telefono, che il telefono ha una peculiarità, che per far vedere che funziona ce ne vuole due. Cioè, un telefono da solo non funziona, no? Ce ne vuole due. Quindi lui aveva fatto due telefoni, eccetera. Aveva bisogno di quattrini per mettere su l'impresa. Era una start-up, di fatto. No, lui aveva inventato l'oggetto, aveva brevettato, aveva bisogno di soldi per fare la sua start-up. Parliamo della fine dell'Ottocento. Va dal sindaco di New York a fargli vedere questo oggetto, dicendo, oh, mi dia un po' di soldi che mettiamo su questo business del telefono. E glielo fa vedere, glielo fa provare, e lui dice, bellissimo, fantastico. Dice, ma non ho capito a cosa serve. Non esisteva, eh? Non ho capito a cosa serve. E lui dice, ma come? Puoi chiamare tutte le città degli Stati Uniti. Addirittura si dice, puoi chiamare i sindaci delle altre città degli Stati Uniti. e lui risponde, ma perché dovevi chiamarlo? Non conosco nessuno fuori da New York. È chiaro? Cioè, questo qui ha inventato una roba che nessuno sa a cosa può servire. Perché nessuno ha mai avuto il problema di parlare con uno distante. Te parli con uno che sta di fronte a te. Perché devo parlare con uno che non c'è? Guardate, parliamo di una roba di 130 anni fa. Ok? Quindi, un'invenzione straordinaria, perché ormai non possiamo vivere senza, che è stata inventata senza che servisse a qualcosa. Quindi non solo hanno scoperto come fare a trasmettere onde elettromagnetiche, a trasformare suono in onde, onde in suono, ma addirittura per un'applicazione che non serve a nessuno. Quindi diciamo proprio all'essenza della cosa inutile. Di fatto poi la cosa funzionava. Questa è una fotografia del 1899, quindi pochi anni dopo, in cui, guardate, questo è Local and Long Distance, Branch Office. Questo qui è un telefono pubblico. Un telefono pubblico costava 50 centesimi al minuto parlare da Los Angeles a San Francisco, circa 14 dollari di oggi, col telefono pubblico. Questa è una fotografia carina degli anni 30, in cui si vede una ragazza che sta in macchina e telefona dalla macchina. Quindi la prima esigenza è di avere il telefono a disposizione di quando ti serve, e non solamente a casa, attaccato al muro, come avevamo anni fa. Questo è il telefono a gettoni. Il primo telefono a gettoni in Italia è stato costruito e installato il 10 febbraio del 52 in piazza San Babila Milano. Prima non esisteva il telefono pubblico a gettoni. Doveva andare alla cabina, nel bar, piuttosto che in albergo o a casa. Per dirvi, sto parlando di una roba non di secoli fa, Questa è raccontata come la prima telefonata fatta da un telefono mobile. Questo signore Martin Cooper era il capo dello staff che faceva ricerche sulla telefonina mobile in Motorola. Parliamo del 73. Vedete, è carina perché la foto è fatta di fronte a quelli in coda alla cabina telefonica. E si dice che questa valigetta tenesse un tipo una 10 kg di batterie, perché all'epoca il problema era la batteria. che poi c'è sempre il collo di bottiglia delle invenzioni, cioè inventi il telefono ma non hai la batteria. Perché una volta le batterie erano al piombo, è un casino, come fai ad andare in giro con un oggetto. E poi abbiamo questa invenzione straordinaria, questa, che è la SIM card. Allora, questa invenzione è stata brevettata qui, questo è il brevetto della Nokia del 1991, in cui Nokia brevetta la SIM card, e sbarella. Perché? Perché prima, voi non ve lo ricordate, probabilmente, anzi direi sicuramente, i primi telefoni cellulari avevano incorporata la linea, per cui se uno cambiava telefono, doveva cambiare linea. E poi c'era il tema di come attaccarmi, quello lì era la linea XYZ. La Nokia, invece, brevetta la SIM card, che sostanzialmente è il contratto. Io compro il telefono che mi pare, ci infilo questo e vado. E la cosa divertente e interessante è che ha utilizzato il brevetto in modo diverso, cioè non ha usato il brevetto per proteggere, ma per diffondere. Cioè lei ha regalato questo brevetto della SIM card a tutti i provider del mondo, dicendo usate questo, quello regalo. E quindi è diventato lo standard. Ma lei era l'unica che aveva i telefoni con lo standard. E quindi tutti gli altri ci hanno messo mesi per fare i loro telefoni con la SIM card. E quindi lei ha conquistato il mercato grazie a un brevetto che ha regalato a tutti i provider. 1991 nasce la telefonia come la conosciamo oggi. Ok, la SIM è sempre quella, la micro SIM, insomma, il concetto è sostanzialmente quello. La tecnologia esisteva già dagli anni 70, ma mancava tutto il resto. Quindi come vedete anche lì, ogni invenzione funziona, ma non è detto che sia in grado di venderla a qualcuno. Perché se ho brevettato qualcosa nel 73, nel 91 ormai siamo out. Ok? Quindi attenzione, c'è un tema anche di obsolescenza, c'è un tema di time to market, di tempo. Vabbè, fotografia. Questa è una delle prime macchine fotografiche da gherrotipo, che andava con le lastre, l'argento, i sali d'argento, e bla bla bla. Qual era il problema di quell'epoca lì? Che le fotografie le facevano solo i fotografi professionisti, perché avevano accesso a queste macchine. Alla fine dell'Ottocento la Kodak inventa questa roba qui, che dice You press the button, we do the rest. The only camera that anybody can use without instructions. Cioè non è che cambia la tecnologia, però la tecnologia diventa accessibile. Quindi hanno inventato un sistema per far sì che anche io posso comprarmi questo oggetto e fare delle fotografie. Capite cosa vuol dire a livello di mercato? La Kodak poi sviluppa la pellicola, e la pellicola è stata quella con cui abbiamo vissuto per cent'anni, la pellicola. La pellicola è stata fatta poi dal bianco e nero al colore, la diapositiva, la risoluzione, tutto quello che mi pare, finché un bel giorno, negli anni, fine anni Ottanta, inventano il CCD, cioè il silicio che registra le immagini. Qui c'è un passaggio importante dalla chimica alla fisica. Non è un passaggio incrementale, mentre fino a qui era stata incrementale, dal vetro alla pellicola, dal bianco e nero, cioè continuo a migliorare, qui non miglioro nulla, qui cambio. Cioè prima era chimica, questa è fisica, con alcuni vantaggi. La chimica è irreversibile, quindi faccio una pellicola e poi uso quella o la butto. La fisica invece è reversibile, prendo una foto, la cancello e ce la rifaccio sopra. Quindi con dei, tra l'altro vantaggi di costo enormi, di archiviazione, tutto quello che vi pare. Ma è un altro metodo, la Codac è fallita, perché non ha capito che non poteva continuare a fare chimica, doveva fare fisica. Vabbè, questo è. Perché vi ho raccontato queste storie? Perché se le mettiamo in parallelo, il telefono sopra e la macchina fotografica sotto, e cerchiamo di capire cosa nasce dalla ricerca e cosa nasce dal mercato, io ho messo R, mia interpretazione, ciò che viene perché si è fatta della ricerca e M, ciò che viene perché penso che il mercato lo voglia. Perché il primo telefono è evidente, il mercato non gliene fregava assolutamente nulla, nessuno sentiva il bisogno del telefono e però quello lì, facendo ricerca sulle onde elettromagnetiche, trova il modo di trasferire la voce. Poi comincia, funziona, allora quello dice, ma allora perché non faccio, non lo faccio portatile, perché non lo faccio, bla bla bla, e c'è un'evoluzione. Analogo sul discorso della fotografia. Finché qui avviene un fenomeno assolutamente straordinario. Perché? Perché questi due oggetti, il nuovo telefono e la nuova macchina fotografica, utilizzano la stessa tecnologia. La stessa tecnologia, scusate, è un po' rozzo per dirlo, però sostanzialmente la stessa roba. E quindi qualcuno dice, ma perché non li metto insieme? E guardate che questo qui è un passaggio che non ha niente a che vedere né con il bisogno, né con la ricerca, né con... Ma è un passaggio epocale, per cui oggi abbiamo messo insieme questa roba e abbiamo un telefono che fa le fotografie e non una macchina fotografica con cui telefonare, per esempio. Cioè cos'è? Un telefono che fa le foto o una macchina fotografica che telefona? Allora, è una domanda oziosa. Qui dentro c'è un passaggio ulteriore che dice, qui c'è della ricerca sicuramente, perché qui c'è miniaturizzazione, batterie. Cioè qui, la ricerca sulle batterie è una roba che ha rivoluzionato questa cosa qui, ma è nata anche perché la gente continua a avere problemi col telefono che deve sempre stare attaccato. Ora questi oggetti, in fondo, una giornata li teniamo e fai foto e giochi e prenoti i biglietti e telefoni e va in rete, no? Quindi la tecnologia che nasce da questa roba qui è straordinaria e utilizza ricerca scientifica per trovare la soluzione. Voglio batterie che consumino poco e che siano piccole. Quindi qui c'è ricerca, c'è sicuramente mercato, perché questo credo sia evidente a tutti, c'è molta innovazione. Innovazione è qualcosa che non mi aspetto che succeda. E cioè nessuno è in grado in qualche modo di prevedere che da un telefono, oggi i telefoni cellulari si vendono perché fanno le foto meglio per certi versi, perché la telefonata è uguale comunque. Cioè non percepisco nessuna differenza a telefonare con un telefono di oggi o uno di cinque anni fa. È uguale. Quello che cambia è tutto il resto. Quindi vendo un telefono per altri motivi. Allora questa roba insegna molto e dice, attenzione, questi sono i passaggi knowledge, technology e impact. Ecco, noi siamo, noi parlo, io, però nel TTO dell'ufficio di trasferimento tecnologico di quasi tutte le università che conosco si lavora così. Cioè si immagina che il ricercatore X che fa fisica della materia abbia fatto una scoperta e dice, questa roba è utilissima per migliorare un prodotto. Benissimo, lo trasferisco al progetto, il progetto funziona, lo trasferisco e va sul mercato. Cioè 1-1-1-1-1. Questo è quello che si chiama il modello lineare. Questo modello lineare è assolutamente occasionale. È una percentuale bassissima di quando le cose funzionano. Normalmente quello che succede è che invece bisogna cominciare a immaginare che tu trasferisci tecnologia come dico io, trasformata. Quando prima dicevo selezione e trasformazione. Devo selezionare qualcosa ma poi estremo in grado di trasformarlo. Non lo posso vendere così com'è. o pensare che venga utilizzato così com'è. Perché molto spesso lo utilizzo in un altro settore e quindi ho bisogno di trasformarlo. Ma anche qui tipicamente ci sono tutte. Quindi il sistema è molto complesso. E fare trasferimento tecnologico vuol dire anche sapere altre cose che non sono solo quella che faccio io ma cominciare a mettere in pista altri tipi di conoscenza che devono trasformare la mia conoscenza per far sì che sia applicabile. Guardate che questa operazione che è un'operazione ovviamente abbastanza colta perché ha a che fare con la complessità e quant'altro spesso può addirittura avere le stesse degli spin off di conoscenza. Cioè facendo una cosa con un certo prodotto insieme a un altro poi posso capire che può servire per un'altra cosa ancora. Il sistema diventa molto complicato. Queste cose qui in alcuni ambienti lo chiamano open innovation cioè il fatto che si possa immaginare di ibridare la tecnologia. E guardate vi parlavo ora di batterie ma è chiaro che uno che sviluppa il telefono cellulare probabilmente non gli viene neanche in mente nel momento in cui sviluppa il telefono cellulare il problema della batteria perché è talmente bello l'idea di aver fatto un telefono che funziona che la batteria è migliore dei problemi e chi fa le batterie per i cellulari non pensa neanche che fra dieci anni le macchine a benzina non esisteranno più ma chi se lo immaginava no? E allora tutto questo è questo casino qui allora lavorare col paraocchi oggi è estremamente povero povero nel senso che poi non porta secondo me a ricadute a generare un vero impatto nella società e noi siamo in particolare in Italia siamo molto abbiamo questa gran consuetudine di lavorare per settori molto pensate le università sono fatte di dipartimenti disciplinari cioè una cosa che ormai è totalmente obsoleta rispetto al modo in cui si lavora nel mondo ma queste sono regole del gioco che ci sono state date scusate questo è l'assalto perché mi sembra inutile e quindi l'assalto era bella ma inutile ok il tema è come immaginare e come indirizzare i risultati delle ricerche rispetto a un'applicazione io qui vi racconto la storia di un mio amico che fra l'altro è venuto qui e ha fatto una lezione devo dire entusiasmante con quell'altra cosa che avevamo che diceva prima Fabio Terragni che è attualmente un professore di scienza dei materiali in una università italiana e ha avuto una storia personale secondo me è abbastanza straordinaria io non la so raccontare nei dettagli che sono talvolta molto molto importanti vi racconto però il senso della cosa lui ha fatto un dottorato di ricerca in scienza dei materiali in particolare lui è un ingegnere e si occupa di polimeri e il dottorato di ricerca era finanziato la sua borsa finanziata da un'azienda che aveva come tema il trovare un materiale assorbente per pannolini in generale un materiale assorbente biodegradabile perché diciamo che lui dice che il volume maggiore di rifiuti urbani non degradabili sono i pannolini di tutte le razze impossibili e immaginabili da quelli per bambini a quelli per adulti a quelli femminili e quant'altro quindi l'idea di avere un pannolino con il fluff assorbente biodegradabile poteva essere la soluzione comunque questi finanziano la dottorato lui fa la sua tesi fa il suo lavoro di dottorato e in effetti in effetti alla fine trova un un gel un gel assorbente idrofilo fortemente idrofilo a base di cellulosa e quindi biodegradabile lo sviluppa mette a punto fanno le prove funziona eccetera eccetera brevettano questa roba finito il dottorato questi dicono guarda non ci interessa più nel frattempo abbiamo pensato a altri tipi di mercati quindi non ci interessa e gli lasciano il brevetto a lui a loro il gruppetto erano in tre gli inventori lui era più il dottorando gli lasciano questo brevetto però chiaramente se questo qui che era il più grande produttore del mondo di questa roba non gli interessa a chi lo vendi cioè hai fatto una roba per i pannolini e quello dei pannolini che te l'ha addirittura commissionata e pagata dice guarda te lo lascio non me ne frega nulla è chiaro che lui comincia a ragionare va a fare un postdoc all'MIT a Boston e partecipa a una gara per neoimprenditori Davey Business no Business Plan Competition eccetera e propone di costruire dei filtri per emodialisi basati sul suo prodotto realizza un filtro sperimentale funziona abbastanza bene eccetera eccetera vince il primo premio all'MIT che è gasatissimo la sera del premio incontra degli investitori che sono andati alla premiazione eccetera gli presenti al prodotto dice no guarda questa roba non ce ne frega nulla non funziona sicuramente a livello clinico c'ha tutto un sale di problemi eccetera quindi dice grazie bellissimo il progetto è meraviglioso il business plan fatto benissimo ma grazie non ce ne frega nulla e quindi rimane così allora comincia a pensare cosa farci cosa farci e gli viene in mente di utilizzarlo per per i terreni in zone aride cioè dice se questo lo mescoli con la terra quando piove assorbe l'umidità assorbe l'acqua e la rilascia essendo biodegradabile la rilascia nel tempo fanno delle sperimentazioni gli viene investito da BASF fra l'altro questa è la copertina di Green Chemistry con il suo prodotto perché aveva pubblicato sta roba grande successo BASF ci investe fanno un'intera cominciano a fare delle sperimentazioni su dei campi in Brasile dove facevano biofuel quindi è una roba che si riesce a fare più coltivazione durante l'anno mettono questa roba lì dentro funziona a un certo punto dopo aver sperimentato un po' questa roba gli dicono guarda la cosa funziona però ha delle complicazioni dicono grazie buongiorno buonasera e quindi ritorniamo a zero nel frattempo lui ha fatto sperimentazioni pagate quindi li finanziamo la cosiddetta la ricerca che poi sviluppo sempre lo stesso prodotto identico quindi torna a casa e fa la sua start up con dei po' di soldi che prende da amici e parenti e mette su una sua piccola aziendina all'università per fabbricare questo prodotto e cosa ci fa? ci fa questo oggetto che è che è un un sistema per le diete sì ah perché tu sei no era venuto da Montino ah ecco per fare la conferenza per la conoscenza per il 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 bella storia no? poi sì beh è sempre lui ragazzi lo so è un grande successo allora come ho conosciuto Alessandro Sannino al di là del fatto che insomma c'erano tutte delle relazioni ma non lo conoscevo personalmente allora un po' di anni fa eh io ero presidente di una commissione di concorso da associato però lui è ordinario da tempo era ancora ricercatore ehm ero presidente di una commissione da associato e fra i vari candidati c'era questo Alessandro Sannino vabbè viene e se all'orale della commissione era prima delle abilitazioni prima delle donità non è quelle concorsi vecchi arriva questo questo ragazzo e gli si dice ma di cosa ti occupi con la tua attività di ricerca gli dice scusi posso avere un bicchier d'acqua ecco un bicchier d'acqua gli diamo un bicchier d'acqua lui lo riempie così apre questa cosina e la versa dentro e io dico ma che fai cioè non ho 10 aspetti aspetti passano 3 minuti e fa così solida cioè aveva messo dentro ma un grammo due grammi di questa polverina e in 5 minuti putta giù l'acqua è diventata solida perché è un gel che che assorbe non mi ricordo quanto ma tipo non so 300 volte il suo volume di acqua e quindi l'acqua è assorbita nel gel viene intrappolata nella matrice polimerica e diventa solido fa questo già questo giochino qui interessante poi prende e lo mangia perché è biodegradabile bocciato chiaramente non era il suo turno diciamo così comunque è andata bene poi no io ho conosciuto così Alessandro allora lui dice ma scusami questo fatto qui no se tu butti nello stomaco di uno gli fai bere un bel litrozzo d'acqua e ti butti giù un po' di questa roba questo te lo riempie diventa solido e te hai senso di sazietà dopodiché chiaramente lo elimini e è acqua ci ha messo quanto ci ha messo 10 anni di fatto perché poi non andava bene per mille motivi fase 1 medical device fase 2 tutte le robe eccetera però ha raccolto oltre 50 milioni di euro di 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 finanziamento ha fatto una società che è a Lecce quindi società finanziata dagli americani ormai di capitale americano a Lecce vende tutto il mondo con una roba che doveva essere pannolini e ora lui li mangia capito anche questo è interessante no faccio il pannolino e lui oggi mangia il risultato del suo pannolino per dirvi che in effetti diciamo ora lui è un caso di persistenza quasi quasi esasperata no perché ce ne sono tanti che fanno la stessa roba e poi finiscono al macero però lui è come persona intelligente ha fatto un'esperienza esasperata e ha avuto successo qui dentro c'è tanta ricerca tanta ricerca che non è fatta per risolvere nessuno di questi problemi questa è una cosa interessante è che trovata una proprietà diversa da altre ti vengono in mente tante possibili soluzioni ma se non c'è uno che si mette a pensare alle soluzioni quello ti dice guarda era per i pannolini non ti do più ti regalo il brevetto e lui ti mette a fare un'altra roba ecco quante ce ne sono allora questo qui è un caso fortunato sicuramente ma un caso fortunato su qualcuno che però veramente ha lavorato tanto per portare a casa il risultato quindi capire come indirizzare i risultati sulle applicazioni non è cosa che pensiamo di fare in 5 minuti perché dici no guarda non funziona quella roba lì poi funziona un'altra cioè scusate il Viagra il Viagra sulle possibili altre applicazioni è chiaro che il Viagra è diventato famoso per quell'applicazione principale che sappiamo ma le possibili applicazioni possono essere altre guardate che si può ribrevettare la stessa molecola per altre applicazioni perché è diverso il problema di cui questa è soluzione come si fa a valutare il rischio beneficio ma allora supponiamo di avere inventato qualcosa che viene dalla ricerca scientifica attività di ricerca le metto insieme ho inventato quelle cose molti di voi hanno detto sto lavorando a questo perché vorrei risolvere questo problema e quindi ho la molecola sto cercando di capire come funziona un enzima quello che mi pare vabbè a questo punto c'è tutta una fase che io chiamo fase di sviluppo e che dice ok l'ho trovata a questo punto devo vedere però funziona davvero riesco a produrla è stabile ha effetti collaterali tutte le robe che sapete nel caso della ricerca biomedica fase 1 fase 2 fase 3 in caso di altre cose efficienza efficacia competitività rispetto ad altre soluzioni che stanno sul mercato non è che avete solo quella quindi facciamo un po' di valutazione per fare questa c'è bisogno di ricerca clinica tecnologia va fabbricato va fabbricato bene studi funzionali tutta una serie di attività di caratterizzazione del prodotto rispetto agli obiettivi dopodiché supponiamo di uscire positivamente e abbiamo un nuovo prodotto cioè funziona it works l'ho dimostrato bene posso uscire cioè vado da uno dico guarda funziona te lo faccio vedere so come si fa a farlo te lo vendo e lo fai te va bene oppure dico guarda siccome è ancora povero lo posso arricchire ancora e ci guadagno di più no? vendo una casa da ristrutturare vendo una casa ristrutturata probabilmente guadagno di più bene allora posso andare verso una realizzazione di una una mia società che fa quella parte di sviluppo guardate le start up nella stragrande maggioranza dei casi sono fatte per venderle ok? però vendere una start up da più da più ritorno che vendere il prodotto della start up chiaramente ci vuole più denaro ci vuole più rischio no? perché? perché vendi il rischio che ti sei che ti sei assunto cioè nell'ambito dell'impresa gran parte dei valori è il rischio che ti giochi quindi decido che vado avanti porto dentro il mio know-how a questo punto ho una fase che si chiama engineering cioè sono in grado di fabbricarlo di fabbricarlo in maniera costante cioè con prestazioni e caratteristiche costanti come faccio a parlare ho lo scaling che non è banale nel caso del medical device registrazione valutazione tutte queste balle qui queste richiedono accesso alla tecnologia e accesso a capitali ok? qui comincio a investire davvero dopodiché devo andare produzione distribuzione mercato sono tutte fasi in cui richiedono persone competenze accessi e quant'altra quindi ho bisogno certamente di partner perché da solo difficilmente riesco a farlo e a questo punto di capitali c'è un salto di investimento sui capitali a questo punto io esco e cioè sostanzialmente vendo questa questa impresa questa è la cosa più tradizionale poi esistono altri casi no? altri casi perché San Nino per esempio ha venduto l'impresa non perché l'abbia venduta ma perché di fatto la sua quota è rimasta una e siccome ci ha messo 50 milioni l'ha diluita quindi lui non è più il proprietario è uno che ha delle azioni io posso comprare le azioni Fiat ma non certo non controllo la Fiat se compro le azioni così lui però fa il direttore generale non so cosa faccia quindi questo è il meccanismo allora questo meccanismo perché può funzionare o non può funzionare? guardate questo meccanismo funziona o non funziona non perché funziona il prodotto ma perché funziona il denaro che c'è dentro perché qui io sto vendendo dei pezzi diciamo nella prospettiva di ritornare soldi perché questo qui mi devi dare il seed money? perché questo mi dà il capitale? perché questo mi mette a disposizione di tecnologia? perché questo ci sta e mi vende lui il prodotto? perché tutte queste robe? perché c'ha una prospettiva di ritorno io devo dimostrarglielo questo devo essere credibile e dire guarda che questa roba qui oggi tu la paghi 10 ma nei prossimi 3 anni porti a casa 100 e deve essere credibile allora questi sono in rosso sono il costo money in money in money in money in e questi invece sono i ricavi money out ok? allora in questo progetto io abbiamo 1,2 1,2,5 cioè se la exit è al 5 e poi 3,4,6 allora vedete che io qui ho dei costi di ricerca qui ho dei costi un po' di sviluppo proof of concept e devo portare a casa se vendo qui devo portare a casa almeno di recuperare questi e di avere un po' di soldi per reinvestire in ricerca se vado avanti aumentano i costi e quindi devo pensare che il mercato sia ancora più grande quindi io devo essere in grado quando penso al mio prodotto a uno schema questo è uno schema molto semplificato consentitemi di essere un po' semplice un po' banale mi rendo conto e mi scuso però il concetto è questo cioè questo può essere una roba fantastica ma se non ha questa prospettiva è fantastica e lo pubblico ok devo avere un'idea io per primo devo avere un'idea di cosa voglio dire andare sul mercato cosa voglio dire investire in tecnologia investire in questo e guardate questa roba qui per come l'ho disegnata e l'ho disegnata io quindi non ci sono numeri sono qualitative dice semplicemente che la ricerca è la roba che costa di meno la ricerca costa normalmente di meno di quanto non costi lo sviluppo le prove ma il settore voglio dire del farmaco è noto la ricerca costa 100 e arrivare sul mercato costa un miliardo no allora voglio dire perché uno dovrebbe investire sui miei 100 con un miliardo fatemi capire ok quindi non è così scontato e banale non è così scontato e banale allora da questo punto di vista io sono abbastanza affezionato a questa a questa rappresentazione io dico noi stiamo supponiamo che noi siamo qua no public or not public research in quanto tale knowledge ed education knowledge ok noi facciamo questo non tutti non necessariamente ma però supponiamo di rappresentare questo e qui c'è c'è quello che ci deve mettere i soldi perché perché vuole andare sul mercato con la nostra ricerca trasferimento tecnologico e io l'ho rappresentata nelle tre anime ricerca sviluppo e applicazione sono sempre le solite tre sviluppo ricerca sviluppo applicazione ora la domanda è la ricerca la fa questo signore qui perché è uno scienziato che sta in laboratorio l'applicazione la fa questo qui perché conosce il mercato e sa dove andare a vendere la roba in mezzo lo sviluppo è quello che ti consente di trasferire la conoscenza alla sua applicazione chi la fa questa parte qui chi la fa chi è in grado di leggere la mia ricerca e di trasformarla in un oggetto che si vende sul mercato chi lo fa esiste un terzo soggetto allora potrebbe esistere e lo potremmo chiamare technology transfer office però technology transfer office è uno che deve capire questa roba qui non è uno che fa i contratti eh cioè deve capire questa roba qui per convincere questo poi può essere un technology transfer office che fa come si dice licensing licensing out cioè che vende oppure che fa licensing in cioè che sta di qui e cerca e cerca soluzioni sulla ricerca non necessariamente condividono la cosa il licensing out vuol massimizzare il valore il licensing in vuol minimizzare il valore perché devo comprare non è così scontato allora la domanda quello che succede oggi normalmente è che questo qui sta più dalla parte cioè lo sviluppo lo fa quell'altro tu li vendi raw raw results oggi noi ancora siamo nella fase in cui tendenzialmente vendiamo raw results ma cioè conoscenza quelle si chiamano materie prime questa è la chiamata conoscenza prima e è knowledge transfer e questi qui si prendono la ricerca magari ti finanziano una parte di sviluppo però a quello punto il controllo ce l'ha loro ci sono peccati il brevetto questa è la cosa più standard non è sempre così ma è la più standard mentre noi dovremmo passare e qui la mia idea di trasferimento tecnologico in un posto come questo per esempio dovremmo passare a un modello in cui lo sviluppo si fa più vicino alla ricerca e quindi devo avere devo avere a disposizione strutture che fanno la ricerca e che fanno lo sviluppo che è un altro mestiere cioè che provano a mescolare questa roba per dare valore alla mia ricerca e trasferire progetti cioè di quelle tre linee io vorrei che chi è vicino alla ricerca cominciasse a lavorare su questo cioè non vendere più cacao vendere tavolette di cioccolata è difficile perché hai bisogno di una struttura che abbia le competenze scientifiche le competenze giuridiche le competenze amministrative la conoscenza del mercato che non deve fare ricerca però deve capire come utilizzare la ricerca per quella roba lì questo è il sogno prego il brevetto lo possiamo immaginare sia qui che qui a me piace immaginarlo qui la domanda è molto buona perché noi siamo abituati a vedere il progetto qui il progetto qui spesso non coglie non coglie il problema che voglio risolvere coglie più la soluzione del problema io ho visto un sacco di brevetti io ho gestito per diversi anni il portafoglio brevetti del Politecnico di Milano dove ho costruito proprio l'ufficio brevetti e mi ricordo abbiamo fatto sarà stato 2006-2007 abbiamo fatto una giornata per festeggiare il centesimo brevetto del Politecnico ecco di quei cento brevetti che ho visto nascere uno per uno io ricordo bene come tutti questi volevano brevettare la soluzione senza avere idea di quale fosse il problema ovvero sì c'era un problema ma non era un problema di mercato è un problema loro il problema è loro e quei brevetti sono tutta roba che butti nel secchio perché fai vedere la soluzione e uno che ha un problema diverso dice no è già brevettato lo prendo a casa e lo porto e lo ribrevetto io quindi questo è un rischio se tu avessi la fase di sviluppo tu potessi brevettare la soluzione del problema questo ha valore questo non lo venderai quasi a nessuno perché che dice scusa l'hai già brevettato già l'hai divulgato a me serve per un'altra cosa che lo uso punto quindi questo è il concetto vero ma non lo facciamo praticamente mai perché perché non lo sappiamo fare anche ci vuole dell'investimento e secondo me i decisori non hanno capito questo per loro il trasferimento tecnologico è fare brevetti non è fare brevetti è fare brevetti che servono gestirli e metterli sul mercato con una finalizzazione precisa è un arricchimento insomma non so se ho risposto il problema di questo modello secondo non è che non lo so perché lo penso io non è che le atti siano un po' confusi di studiare finanziare cioè nel momento in cui inizio l'università la ricerca sono evidentemente per la ricerca e poi per il sviluppo e l'applicazione intervengano i terzi che hanno fatto fare per l'industria se si sposta lo sviluppo verso la ricerca Allora non esiste una risposta univoca esistono tanti casi diversi il problema vero di questa roba qui è la gestione di queste relazioni infatti quando vi verrà Massimiliano Granieri mercoledì potete fargli questi casi perché è chiaro che noi abbiamo lo chiamo il dovere forse anche il diritto di mantenere autonomia qui e indipendenza qui invece secondo me no qui noi dobbiamo invece identificare un partner che cofinanzia e che in qualche modo ci indirizza e ci aiuta a trovare la soluzione e la cosa difficile è sganciare questi due aspetti molto spesso questi partner vogliono garanzia di tutto quello che si chiama il background cioè dice guarda allora io vengo a fare questa roba però tutto il background a questo punto diventa nostro ma questo background potrebbe avere anche altre applicazioni io non voglio quindi è veramente un tema di di definire il rapporto tra questi due io non ne faccio una questione di etica ne faccio proprio una questione di trasparenza di trasparenza non è facile non è facile in alcuni ambiti è più facile in alcuni ambiti è meno facile ma non è facile perché ognuno cerca di massimizzare il proprio risultato e allora siccome il risultato di questi è garantirsi competitività voglierebbe eliminare ogni altro tipo di soggetto per esempio uno dei rischi è che se tu ti leghi molto a uno non riesci più a fare ricerca con nessun altro no? perché questo dice poi dopo tu veicoli informazione quindi ci sono alcuni aspetti diciamo difficili e complessi esistono dei casi io ne conosco diversi di laboratori congiunti per esempio no? cioè uno che dice vai all'università ti metto lì un po' di un po' di soldi tu con i soldi riesci a costruire un bel laboratorio lo attrezzi in maniera importante ti do anche dei tecnici tu ci metti i ricercatori facciamo ricerca di alta qualità perché sei up to date di chi è e questo va va disciplinato molto bene e lì il punto è delicato e noi siamo sempre pur di avere i soldi siamo disposti a dare tutto ecco poi dopo è rischioso comunque dipende dipende diciamo qui si entra molto in alcune questioni che hanno a che fare con la policy quindi di governance l'obiettivo dopodiché puoi dire all'ufficio di trasferimento tecnologico gestisci questo e questo e quell'altro modo diciamo che attualmente non mi risulta che lo facciano gli uffici di trasferimento tecnologico sono più strategie di relazioni queste qui al momento però non è facile ovviamente qui aumentano i costi aumentano i rischi e quindi il valore eccetera allora who pays the risk chi paga il rischio perché il rischio è il valore abbiamo detto ora anche qui sto esagerando adesso non parlo un po' per schemi però il rischio è il valore allora il processo supponiamo che sia questo know how and new knowledge idea come risolvere un problema prova sperimentazione protezione eventualmente proprietà intellettuale ingegnerizzazione cioè capacità di produzione produzione commercializzazione e controllo sul mercato questo è un processo no allora questo è la produzione del valore qui viene generato il valore senza di questo non avresti il processo quindi qui viene generato il valore ma quanto è questo valore questo valore è molto proporzionale in questa fase al rischio che questa roba non serve a nulla piuttosto che valga poco eccetera quindi va sempre misurato quant'è il rischio di uno che investe a questo punto qui perché perché queste robe qui queste cose qui sono il rischio cioè metto a fare un'esperimentazione eccetera a scopo che non funziona o funziona male o è peggio di una roba che già esiste può proteggere a scopo che c'è un brevetto che me lo annulla e via discorrendo allora se questo rischio se lo gioca chi compra questa qui vale poco se me lo gioco io e quindi voglio arrivare fin qui a questo punto vale tanto ma me lo posso permettere? è un rischio comunque sia no? quindi il tema vero è valutare questo dopodiché chiaramente queste operazioni laddove dicano warning non funziona bene devono ritornare per forza qui o cioè o lo butti via o ritorni lì quindi comunque sia devi sempre rinvestire sul valore qui porti a casa i soldi ecco il time to market di questa roba qui è chiave perché se è come nell'informatica sei mesi è un discorso se è come nel farmaco dieci anni insomma allora quanti me ne posso permettere di giocare di rischi di queste partite qui? tre quindi attenzione a cosa stiamo facendo allora sulla stima del time to market anche qui è schematico molto però è questo allora noi abbiamo la conoscenza abbiamo un mercato supponiamo di avere la conoscenza so una cosa nuova e conosco il mercato possibile in questo caso è quello che io chiamo innovazione incrementale cioè ho migliorato una roba che esiste è un valore guardate è un valore spesso migliore superiore perché? perché quella roba esiste la gente quindi la vuole e io gliene do meglio cioè quelli lì tutti i giorni che ci dicono ora è uscito il modello iPhone 15 e tutti buttano via il 14 e comprano il 15 non è che sia un altro oggetto è questo qui che va un po' meglio quindi il valore incrementale tocca un tasto su cui tutti siamo già sensibili e quindi lo vogliamo quindi ha un bel valore però è un valore in cui sono in competizione col mondo perché il giorno dopo esce fuori quell'altro con quello migliore quindi lì ci distribuiamo un po' il mercato poi ci ho invece quella che si chiama disruptive innovation cioè io da questa conoscenza mi viene in mente una roba nuova ok? passo dalla macchina fotografica con la pellicola alla macchina fotografica col silicio una roba nuova che nessuno si aspetta e quindi da lì io posso lavorare sempre su diciamo l'incremento di un'innovazione cioè il prodotto esiste già ma io te lo rinnovo completamente con delle nuove funzioni può darsi che questo qui addirittura elimini questo dal mercato e quindi si porta a casa tutto il mercato nuovo posso avere anche una innovazione disruptive cioè semplicemente mentre sto facendo questa operazione mi vengono in mente cioè il sistema di nuovo anche qui è un po' complesso e posso addirittura arrivare a immaginare un mercato futuro di un prodotto che oggi non c'è non c'è e non è richiesto il telefono con la macchina fotografica cioè io quando avevo il mio telefonino e la mia macchina fotografica non ho mai desiderato che fossero messi insieme come se oggi vi dicessero uno guarda questo telefono a farne espresso fa anche il caffè ne sentite bisogno voi? no vi è mai venuto in mente? no se ci fossi dice che stupidaggine ecco a me è venuto in mente che stupidaggine quando questi facevano le fotografie la prima volta che l'ho visto capito? il mercato non c'è future market però questo qui è interessante spesso per fare questa roba ci sono altre tecnologie che entrano dentro no? e quindi è veramente una roba da esperti di innovazione che però conoscono le tecnologie allora questo primo passaggio è short time to market incrementale è semplicemente facile ok? si migliora qualcosa che c'è già il mercato è pronto l'accesso al mercato è istantaneo il processo è sicuramente sano è facile è sicuro cioè ci metti i soldi e porti a casa i soldi perché lo sai lo conosci il mercato è un mercato noto è noto anche tipicamente il profitto che fai quindi questa roba è quella che fanno tutti normalmente si fa questa roba qui poi c'è invece questo qui sulla disruptive cioè qualcosa che viene proprio dalla ricerca e che inventa una roba che prima non c'era questo tipicamente può avere un time to market più lungo non è sicuro perché hai tutta una serie di incertezze di mercato di ingegnerizzazione eccetera però il mercato è un mercato nuovo e questo può può essere laddove il rischio l'hai superato più profittevole e poi abbiamo invece quello della disruptive totale che tipicamente ha un time to market lungo pensate a quello del telefono che lo fa vedere quello non gli frega nulla e ci mette un po' di anni per il processo è estremamente rischioso il mercato è non conosciuto così come non è conosciuto questo ma tipicamente questo qui se funziona è quello che dà maggiori profitti quindi è più facile è più facile valorizzarlo però con rischi superiori l'ultimo passaggio è come faccio a stimare quanto vale l'innovazione che io ho in testa ok ciascuno di voi dice io penso di aver inventato una cosa che serve quanto vale allora ci sono degli elementi che hanno a che fare io non vi dico quanto vale perché non lo sapremo mai quanto vale finché non vai sul mercato e provi a venderlo eh a me è capitato ho negoziato tanti brevetti ormai molti anni fa ma negoziavo tanti brevetti che vengono dalla ricerca e trovi delle sorprese sempre perché ti sembra che sia una roba fantastica e poi scopri che nessuno ci mette una lira sopra ok allora ci sono alcuni elementi che ne caratterizzano il potenziale valore perlomeno in scala eh in ordine di valore per esempio la dimostrabilità del fatto che funziona tu hai brevettato una roba funziona guarda non è semplice sempre essere in grado di dimostrare che funziona eh allora non c'è per esempio nessuna evidenza che funzioni cioè io ho inventato una roba ma non sono in grado di no mi ricordo un professore politecnico che venne da me per aver inventato dei sistemi di ruote le chiamo ruote ma non è una ruote per una un robot che doveva camminare sulla superficie di Marte volava vendolo dalla NASA ecco chiaramente non l'aveva mai provato in vita sua perché la superficie di Marte bisogna andare su Marte a provarlo come fai a dimostrare che funziona eh dici ma è evidente ma quindi nessuna evidenza è evidente è evidente cioè hanno inventato una roba la cui forma rende evidente la funzionalità quindi può essere evidente ho fatto dei modelli e delle simulazioni quindi ho ti faccio vedere che funziona ho addirittura ho dei prototipi e l'ho sperimentato te lo faccio te lo do provalo te no? è chiaro che questo qui soprattutto se funziona vale di più di questo a parità perché riduce il rischio è sempre il rischio il nostro il nostro target di funzionamento c'è del know-how associato? cioè oltre a aver inventato sta roba io so come funziona te la so migliorare conosco bene il settore guarda vuoi che faccia una cosa diversa no? queste robe qui allora c'è del know-how associato? non c'è c'è ci sono dei prototipi tecnologici ci sono un faso di ingegnerizzazione è chiaro che anche questo aumenta il valore quant'è il time to market? non è prevedibile perché magari è completamente nuovo è lungo perché è lunga la fase di sviluppo è breve perché è incrementare le fasce anche questo andando in giù riduce il rischio e quindi aumenta il valore quindi il valore non è legato al valore del prodotto finale anche se è quello che ci piacerebbe pensare è legato al rischio che ci si mette sopra per arrivare al prodotto finale dopodiché si può dire guarda io te lo lo vendo in un'ipotesi di valore finale che tu mi darai solo se raggiungerai ecco il risultato però il tuo investimento di oggi è talmente alto rischio che quasi non mi dai nulla per svilupparlo sono delle condizioni al contorno per esempio il mercato di riferimento io sto sviluppando un oggetto che va sul mercato che so io delle bottiglie vendo voglio costruire bottiglie d'acqua vuote il contenitore il mio mercato di riferimento è quello lì allora io dico quali sono i prodotti in competizione devo conoscere se il mio prodotto è migliore di questi per qualche motivo perché costa di meno perché inquina di meno perché che ne so qualcosa chi sono i produttori e i distributori cosa vuol dire questo vuol dire ma se io vado sul mercato con questa bottiglietta quante bottigliette si vendono al giorno al mondo in un anno supponiamo che se ne vendano non so 10 miliardi con il mio nuovo prodotto che percentuale porto a casa di questi 10 miliardi cioè non è che aumentano le vendite di bottigliette devo fregare qualcun altro ecco siamo sicuri che se io metto una nuova bottiglietta qualcuno perde delle quote di mercato perché le prendo io cioè cerchiamo di capire no? questo è un po' il tema quindi chi sono i produttori e i distributtori come riesco a entrare a questo qui qual è l'aspettativa di innovazione ma c'è qualcuno che compra l'acqua minerale perché la bottiglietta mia è innovativa domandiamocelo probabilmente sì però sì io posso fare la mia bottiglietta più innovativa del mondo ma se uno compra l'acqua minerale per il contenuto e non per il contenitore la politica dei prezzi ecco tutte queste cose noi non ne teniamo in conto quando l'invenzione ci piace ma è così l'obsolescenza qui c'è il tema dell'obsolescenza della tecnologia sul mercato ora nel caso del farmaco probabilmente è più difficile l'obsolescenza è lunga poi entrano fuori gli equivalenti ci sono tutta una serie di questioni ma in molti oggetti l'obsolescenza è rapidissima insomma ora tornando al cellulare pensate all'obsolescenza di questi oggetti che vanno perfettamente anche quando sono obsoleti eh ma tantissime robe le automobili insomma parlo di cose grosse l'innovazione tecnologica che fa diventare che non è obsolescenza in quanto tale è però competizione che fa diventare obsoleto e dipende questo molto dal tipo di prodotto e poi in ultimo il tema della proprietà intellettuale su cui passerò brevemente nel nei tre quarti d'ora che ci manca cioè esistono brevetti in quell'ambito lì esiste la possibilità di brevettare quali sono le possibilità di fare brevetti dipendenti quindi di far vivere quell'invenzione più a lungo dei suoi vent'anni perché escono perché da quel brevetto nascono altre cose ecco la ricerca brevettuale diventa qui uno dei punti chiave per far sì che un brevetto abbia un po' di valore allora ricerca, sviluppo e applicazioni l'ultimo passaggio su questo dice che la ricerca nuova conoscenza l'ho già detto pubblicazioni scientifiche nuove soluzioni questo è il mondo della ricerca poi abbiamo che le nuove soluzioni quando sono invenzioni si possono brevettare quindi l'appropriazione della proprietà dopodiché faccio la proof of concept funziona vado alla fase di sviluppo dalla fase di sviluppo trovo i capitali le tecnologie e vado sulle applicazioni questo è lo schema abbiamo detto che qui c'è tutta la parte di rischio nella ricerca biomedica e qui research ci scrivo research in medicine c'è un grosso vantaggio in medicine in medicine e cioè che normalmente la proof of concept e il testing si fa nella ricerca stessa cioè la ricerca clinica è una ricerca in cui c'è la proof of concept mentre in fisica questo non c'è perché nessuno ha poi l'oggetto da costruire in chimica nella ricerca clinica tu hai il malato su cui per esempio gli IRCS fanno ricerca clinica quindi il medico non è solamente lo scienziato sempre che lo sia che inventa le robe ma è anche quello che è in grado di trattarle di usarle perché integra queste due funzioni ribadisco non è sempre così però in generale in un ambiente clinico questo è stiamo lavorando molto con gli IRCS per spiegare questo concetto per far capire che hanno un privilegio naturale no? e uno guardate a livello universitario è l'unica categoria di professore universitario che naturalmente nel fare il professore universitario fa anche il mestiere ok? l'avvocato deve andare a tempo determinato se vuol fare l'avvocato l'ingegnere invece il medico di mestiere fa il professore universitario il ricercatore e il medico quindi questo è un aspetto assolutamente unico che va in qualche modo però elaborato questi sono dei dati del 2000 sono riferiti all'anno 2020 in effetti quelli dell'anno 2021 l'ho trovati ieri sono un po' diversi ma insomma non mi interessa questa diversità non mi interessa il dato mi interessa la tipologia di dato questo è European Patent Office l'ufficio brevetti europeo sono i dati appunto del 2020 quindi sono dati relativi ai brevetti depositati all'ufficio brevetti depositati la cui domanda è andata all'ufficio brevetti europeo da tutto il mondo ovviamente perché chiunque può fare domanda e guardate la cosa interessante è che questi sono i tre i tre ambiti medical technology pharmaceutical e biotechnology che sono nel 2020 erano quelli top perché questo aveva il più alto numero di brevetti depositati settore medical technology questo 10.2 aumento e 6.3 sono quelli che sono cresciuti di più perché guardate questo questo è cresciuto dell'1% certo digital communication comunque quindi c'è una una ricerca che sta producendo brevetti nel settore life sciences in generale che è a livello numero 1 in Europa questi sono 2020 medical technology brevetti depositati in Europa guardate la vabbè gli europei stanno crescendo un po' i cinesi sono cresciuti del 34% brevetti depositati in Europa la Corea 13% gli altri paesi cresciuti del 10% c'è una crescita importante i numeri sono ancora piccoli ma la crescita è importante il top applicante Johnson & Johnson seguito da Medtronic e quindi americani e poi da Boston Scientific e quant'altro questi sono pharmaceutical qui di nuovo noi siamo qui siamo in testa dal punto di vista farmaco l'Europa va forte 15% di crescita contro il 13% degli Stati Uniti abbiamo il più alto numero di brevetti qui per esempio la Cina la Cina non c'è o c'è molto poco e questo è biotechnology di nuovo abbiamo gli stati europei che vanno forte qui la Cina è cresciuta del 75% e la Corea del 31% quindi c'è anche un tema di competizione internazionale però il top applicante è Hoffman Laroche quindi società svizzera che non è proprio europea in senso stretto ma insomma ho capito la domanda ma non so la risposta applications applications quindi non è non è granted sono depositi di domanda di brevetto ok ora avete qualche domanda io ho finito questa prima fatta la seconda dura 6 ore avete altre domande è chiaro tutto allora brevemente siccome domani partirà una cosa importante ben fatta sui brevetti io voglio darvi a questo punto un inquadramento del tema brevetti in relazione a questo tema cioè al tema trasferimento tecnologico parto da questa questa ve l'ho fatta vedere prima l'unica cosa che è rimasta scoperta era questa dall'invenzione al brevetto dall'invenzione al brevetto allora il tema vero che secondo me bisogna capire fino in fondo so che lo sapete ma mi fa piacere ridirlo in maniera molto precisa perché è un punto siccome è centrale che molto spesso crea un po' di confusione è stiamo parlando di una proprietà cosa si chiama industrial properties di una proprietà cos'è una proprietà sapete definire una proprietà cos'è una proprietà allora la proprietà è un diritto quindi è è disciplinato da delle leggi non è che secondo me no la proprietà è disciplinata da delle leggi e è caratterizzato da alcune proprietà nel senso non della proprietà da alcune caratteristiche il primo che l'uso dell'oggetto della proprietà è possibile per qualsiasi scopo non proibito quindi se io possiedo questi pantaloni io posso farci cosa mi pare non posso utilizzarli per strozzare uno perché è proibito l'omicidio ma posso farci cosa mi pare li posso tagliare li posso rompere li posso indossare li posso colorare è mio ho la totale disponibilità di dell'oggetto della proprietà secondo posso impedire ad altri di usarli io prendo i miei pantaloni e non te li non li indossi chiaro posso impedirglielo e la legge mi tutela se uno mi ruba i pantaloni e li mette e li indossa io gli dico togliteli immediatamente perché sono miei posso trasferirli posso trasferire la proprietà ad un altro li posso regalare li posso lasciare in eredità li posso vendere ok queste sono le cose che caratterizzano la proprietà farne l'uso che mi pare impedire l'uso ad altri trasferirla ora la questione è io ho parlato di pantaloni come faccio a definire l'uso di una roba che non è materiale come faccio a impedire l'uso di una cosa che non è come faccio a dire lui sta usando una cosa che non sta usando perché non c'è non esiste allora qui è carina la famosa storia di George Bernard Shaw che diceva se tu hai una mela e io ho una mela e ci scambiamo queste mele allora alla fine tu hai una mela e io ho una mela ma se tu hai un'idea e io ho un'idea e ce le scambiamo alla fine ciascuno di noi ha due idee è veramente di una banalità sconcertante ma cosa c'è scritto qui dentro che io posso avere la stessa cosa se è immateriale contemporaneamente in più parti del mondo e può essere usata contemporaneamente da più persone questo non è così per il mio cellulare se questo mio cellulare faccio una telefonata io non può farla lei ok cioè un oggetto fisico ha una sua presenza in un luogo e può essere usato tipicamente solo da chi lo usa in quel momento mentre l'idea no l'idea può essere ovunque la può usare chiunque in qualsiasi momento in contemporanea ok questa è la differenza tra materiale e immateriale allora noi stiamo parlando di beni tangibili materiali quindi che hanno una loro massa e beni intangibili o immateriali quindi che non sono toccabili che non esistono fisicamente la questione che ci interessa è qual è l'oggetto della proprietà beh se l'oggetto è un oggetto fisico è facile per esempio io posso documentare di averlo comprato ho uno scontrino io guarda questo panino l'ho comprato io ho lo scontrino il panino me lo mangio io no posso anche documentare che me l'ha regalato un altro che l'ho ereditato ma come faccio a dire come ho ottenuto l'idea come ho inventato una roba l'ho inventata io l'ho inventata un altro capite che quando dico cos'è l'oggetto su alcuni oggetti è un po' difficile allora il tema è come si fa a documentare una proprietà immateriale ad acquisirla ad usarla a darle un valore quali sono i diritti che ci sono questo è il tema dei brevetti ok capire come si fa a gestire una cosa che non esiste perché il brevetto non è una cosa materiale anche se si riferisce a una cosa materiale perché io ho inventato un oggetto che è una soluzione di un problema tecnico quindi esiste l'oggetto e l'oggetto può essere mio o tuo perché io compro un oggetto brevettato e quando l'ho comprato è mio ma non ho il brevetto il brevetto non è mio ho l'oggetto brevettato quindi c'è anche da capire la differenza tra il brevetto la proprietà del brevetto e la proprietà dell'oggetto che viene realizzato con quel brevetto ovviamente ovviamente su ogni prodotto ci possono essere peraltro perché non è il prodotto no ma è tutto ciò che sta come invenzioni dentro un prodotto questo è un telefono Nokia ci sono trademarks trademarks sta per per marchi c'è il marchio Nokia c'è il marchio del prodotto che è il 280 c'è lo start i marchi possono essere anche anche sonori quindi c'è quando lo accendi fa eccoli ecco lì è un trademark ci sono i copyright i copyright sono sulle robe scritte quindi il manuale il software ci sono brevetti perché sono il modo di processare i dati il sistema operativo eccetera ci sono design la forma la disposizione dei tasti ci sono trade secret può darsi che ci sia qualcosa che non è stato divulgato e che è un segreto che fa funzionare qualcosa e non ti dico cos'è quindi attenzione che normalmente non è che dobbiamo pensare a un brevetto un prodotto un brevetto è una soluzione che magari migliora un prodotto che di per sé funziona comunque IP Intellectual Properties abbiamo detto che riguarda cose immateriali ma le cose immateriali non sono solo invenzioni non sono solo invenzioni sono tante cose per esempio il brevetto protegge le invenzioni lasciamo per dei modelli il copyright protegge creazioni artistiche cioè io ho fatto una fotografia c'è il copyright di quella fotografia non è un'invenzione è una realizzazione artistica una canzone è una realizzazione artistica una poesia è una realizzazione artistica giusto per domani forse vi diranno anche questo ma giusto per per farvi capire cosa vuol dire proprietà ora immagino che molti di voi abbiano delle pubblicazioni scientifiche che sono uscite su delle riviste su dei giornali allora quando voi mandate una pubblicazione a un giornale vi fanno firmare questo questo copyright transfer no? che dice journal publishing questo è quello dell'SV se non sbaglio journal publishing agreement journal copyright owner name quindi journal by mechanics che è il copyright owner cosa vuol dire questa roba? vuol dire che quando mandate l'articolo voi dite chi siete qual è l'articolo bla 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 e poi firmate un foglio in cui si dice I by assign to the copyright owner quindi al giornale the copyright in the manuscript identified above cioè vi dite io do cedo il copyright di questo articolo al giornale l'avete fatto immagino in tanti perché glielo cedete? la risposta è una sola perché ce l'avete perché voi vi siete domandati ma io sto cedendo una proprietà ma ce l'ho? ma se uno dicesse scusami per favore mi vendi questa bottiglietta dici guarda non è mia cioè non è che te la posso vendere ma perché vendi cedi gratuitamente una pubblicazione dicendo che è tua evidentemente cioè non so se avete chiaro questo sembra banale ma non è banalissimo cioè voi state firmando un contratto di cessione di una proprietà intellettuale avendo l'ipotesi che sia vostra perché se no state vendendo fuffa ovvero state commettendo un reato vendete una roba che non è vostra siete sicuri che sia vostra? faccio questa domanda ok ok questo deve essere molto chiaro allora questo è un presupposto per cui voi avete una proprietà come l'avete acquisita scusate perché una proprietà che si cede vuol dire che l'hai acquisita vi siete mai domandati come avete acquisito questa proprietà? perché quando vendete un brevetto avete fatto una domanda vi è stato concesso ma quando vendete un copyright come l'avete acquisito? perché se è vostro vuol dire che l'avete acquisito vabbè ve lo dirà domani la Spinardi però attenzione che sono 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 questioni delicate eh cioè voglio dire ci sono i marchi ci sono i disegni ehm i disegni industriali e ci sono i trezzi ci sono tante forme diverse di proprietà e si acquisiscono in modo diverso per cui il copyright si acquisisce in un modo il brevetto si acquisisce in un altro il logo il marchio si acquisisce in un altro ancora allora sono tutte cose diverse che interessano aspetti diversi a noi oggi interessa il brevetto allora la domanda è qual è l'oggetto della proprietà cos'è il diritto legale che diritto acquisisco quando io quando io cedo il copyright a Elsevier che cosa gli cedo? cioè io posso continuare a leggere quella roba che ho scritto certo che posso continuare a leggerla quindi che diritto gli cedo? sono sempre io l'autore quando esce è scritto Riccardo Pietrabissa non è che c'è scritto cosa gli sto cedendo? quali sono i requisiti per ottenere questa proprietà? e qual è il come posso scusare attuare questo mio diritto che ho acquisito? allora cominciamo vi farlo solo il brevetto e sarò abbastanza rapido cos'è un brevetto? allora questa è una definizione sintetica credo abbastanza efficace di cos'è un brevetto in tutto il mondo perché poi sono sono armonizzate le regole quindi questo è vale dovunque dice il brevetto è un insieme di diritti esclusivi che viene concesso da uno stato sovrano a un inventore o a un avente diritto insomma comunque a un inventore per un tempo limitato per un tempo limitato in cambio di una di una descrizione dettagliata pubblica di una invenzione ok quindi un insieme di diritti che viene concesso da uno stato a un soggetto che è un inventore per un tempo limitato in cambio di una descrizione precisa di una invenzione ora qui dentro ci sono dunque detto così è chiaro no? detto così è chiaro dopodiché se ti faccio la domanda puntuale dici no però non lo so per esempio cosa vuol dire diritto esclusivo? perché a buon senso capiamo tutti cosa vuol dire diritto esclusivo ma cosa vuol dire esattamente diritto esclusivo in termini legali giuridici vuol dire diritto di escludere ok il diritto esclusivo è il diritto di escludere che non vuol dire lo posso fare solo io ma io sono autorizzato a non farlo fare ad altri guardate questo è un punto su cui perdo due minuti perché è veramente il punto centrale di tutti gli errori che si fanno e allora io non so come si fanno a fare le cose bene ma vi posso dire come si fanno quelle male perché ci sono passato allora il diritto esclusivo ovvero il diritto di escludere è l'unico diritto che viene concesso dal brevetto quindi io senza il brevetto posso fare quello che mi pare col brevetto posso fare quello che mi pare lo stesso ma posso impedire a un altro di fare quindi non ho bisogno di un brevetto per fare una roba non c'è scritto nessuna parte ok io voglio produrre esattamente questo cellulare ma io lo produco poi può darsi che chi ha brevetto mi dice oh fermati perché non puoi produrlo ok supponete che io ho di proprietà un bel terreno aperto senza nulla e c'è uno che ci cammina dentro ci può camminare certo che ci può camminare ma siccome io gli posso dire oh fuori ok uguale se io non gli dico fuori lui ci cammina quindi il fatto che io abbia un brevetto non vuol dire che altri sono fuori vuol dire che io devo impedire agli altri di entrare e se non metto se non cito il mio terreno ci entrano tutti perché io non sono lì tutti i giorni a vedere cosa fa la gente quindi il brevetto non è una tutela automatica è una tutela che deve essere esercitata io devo dire a uno guarda che tu stai invadendo un mio terreno smettila se lui lo smette devo chiamare la polizia per buttarlo fuori devo fargli causa quindi la legge non impedisce alla gente di fare ciò che io ho brevettato mi autorizza a impedirglielo questo passaggio non è scontato e è quello che rende per certi versi diciamo vivace il mercato ma rende anche difficile usare un brevetto perché è chiaro che se chi mi invade il campo è una società piena di avvocati e io sono lì è difficile dire fermatevi che quelli mi fanno un mazzo così chiaro quindi il diritto che mi viene concesso non è di essere l'unico a poter fare quella cosa ma di essere l'unico a poter escludere altri la legge non impedisce ad altri di fare perché non impedisce perché io per esempio posso concedere agli altri di fare quindi non è che io posso superare la legge la legge dice ma chiunque fa cosa vuole se te vuoi impedirlo impediscilo no? è un po' come il copyleft il copyleft il copyleft non è che dice impedito però attenzione dice guarda che sono io il titolare quindi chiunque lo può usare però se lo usi in maniera improprio io te lo posso impedire e questo è analogo quindi diritto esclusivo è la parola chiave e vuol dire diritto ad escludere qui c'è per esempio una questione abbastanza delicata e spinosa cosa succede se io licenzio un brevetto vendo un brevetto io ho il brevetto di questo oggetto qui ok? lo vendo a lei vuol dire che la sto autorizzando a farlo? no la sto autorizzando a impedire ad altri ok? quindi quando si dice ti dai una licenza di brevetto non mi stai dicendo mi stai autorizzando a farlo mi stai autorizzando a impedire per autorizzare a fare tu puoi semplici fare un accordo che io non te lo impedisco non hai bisogno del brevetto hai bisogno di garantirti che io non te lo impedisca che è un'altra cosa non ti sto licenziando il brevetto ti sto autorizzando a fare una cosa così come scusate un appartamento io sono proprietario di un appartamento posso impedire a chiunque di entrare? è mio posso lasciare la porta aperta dico stasera faccio una festa entra tutti quelli che passano? sì qualcuno glielo impedisce la polizia? no se entra uno che non mi va bene chiamo la polizia lo faccio buttare fuori uguale se io lo affitto questo brevetto questa casa la affitto quello che affitta può farci entrare chi gli pare e io no do a lui la possibilità di fare entrare chi vuole entrare non sto dicendo che finalmente può entrare lui poteva entrare anche prima è un amico mio può entrare prima e entrava dopo però lui a questo punto è autorizzato a decidere lui chi entra e chi non entra quindi non sto trasferendo attenzione la possibilità di usare l'appartamento sto trasferendo la possibilità di decidere chi lo usa che è una cosa diversa sì in teoria ad esempio se io sono attraverso il brevetto del serato la proprietà interventuale in realtà di poter esattamente di poter il brevetto anche l'università sì dipende potrebbe decidere di come utilizzare il brevetto perché è anche sua proprietà intellettuale allora qui il tema che dice è un po' più complicato vado avanti quando arriviamo qui allora granted vuol dire che viene concesso quindi c'è una legge che disciplina queste regole quindi non è una cosa che si decide no c'è una legge che si chiama codice della proprietà industriale ve lo presenterà domani la dottoressa Spinardi questo è uno stato quindi vuol dire che se c'è un brevetto in Italia vale solo in Italia non esiste un brevetto multinazionale esiste un brevetto in Italia un brevetto in Francia un brevetto negli Stati Uniti quindi il brevetto è tutelato da una nazione questo perché perché se tu vuoi far causa a uno devi farglielo in una nazione non puoi dire faccio causa a un polacco in Francia per un brevetto non ha senso il 12 dice non è mia non è mia competenza territoriale quindi siccome il brevetto presuppone un intervento di una di uno stato il brevetto vale solo in quello stato in cui è depositato c'è un'eccezione ma non è ancora operativa che è il brevetto europeo anzi il brevetto comunitario veniamo alla domanda di chi è la proprietà del brevetto ovvero cosa vuol dire il proprietario quello che può impedire cioè il proprietario è solamente quello che può impedire allora di chi è la proprietà del brevetto guardate il brevetto nasce sempre nella testa di un inventore perché non esiste l'oggetto esiste uno che ha avuto questa idea magari l'ha avuta insieme lavoravamo insieme ci è venuta insieme quello che ti pare però è sempre nella testa di persone non esiste nella testa di un'impresa o di un ente o di un'istituzione è sempre nella testa delle persone quindi il brevetto come si dice nasce nell'inventore che è una persona fisica l'inventore può essere solo una o più persone fisiche dopodiché la domanda è ma l'inventore ha il diritto al brevetto cioè ha il diritto a escludere altri lui dipende allora se l'inversone è una persona fisica autonoma e l'ha fatto nell'ambito della sua attività è suo se l'inventore per esempio è un dipendente di un'azienda che di mestiere fa lo sviluppo di un farmaco e l'ha inventato lui lui per contratto non è proprietario perché l'ha fatta e pagano per farlo quindi i suoi risultati sono lui ha diritto a questo punto si dice ma questo è scritto sul codice a un equo premio quindi lui fa quella roba lì non è sua viene riconosciuto inventore perché per diritto l'inventore persona fisica deve sempre essere riconosciuto ma i diritti patrimoniali derivanti sono del datore di lavoro che per contratto lo fa lavorare su un brevetto poi esistono dei casi misti il caso che diceva lei è un possibile caso misto cioè in alcuni ambienti per esempio in molte università si possono immaginare delle cotitolarità quindi la cotitolarità vuol dire che è titolare sia inventore sia un soggetto che non è un soggetto di persona fisica una persona giuridica che condividono la titolarità allora il codice dice solamente che la titolarità può essere multipla multipla quindi può mettere insieme il titolare si chiama assigni l'assigni può essere un insieme di persone fisiche giuridiche chiaramente che decidono insieme di depositare un brevetto perché ognuno riconosce all'altro un diritto di titolarità se non fai questo vuol dire che tu stai commettendo un reato cioè si stai appropriando di un bene di cui non hai piena titolarità tutto da dimostrare però questo è il principio allora cosa succede quando c'è una multiproprietà succede il casino di tutte le multiproprietà cioè ognuno può impedire a qualcun altro di fare qualcosa perché è ben vero che io voglio vendere la mia proprietà però se vendo la mia proprietà so che c'è un altro titolare quindi poi cosa faccio io quindi è comunque una situazione in genere non opportuna salvo che nel momento in cui si deposita si prendano degli accordi e quindi si dice guarda abbiamo depositato in contolarità però io ti trasferisco il diritto di licenziarlo e tu mi dai royalties sui tuoi royalties cioè troviamo degli accordi oppure si brevetta insieme e poi io ti cedo la mia parte in cambio di normalmente le multiproprietà sono oggetto di discussione e di litigation soprattutto quando arriva il valore perché finché non vale nulla siamo tutti amici quando poi muore la mamma dice ma scusa veramente la mamma ha detto che quel quadro era mio no ecco lì è così ci passerete non so se ho risposto ci avrei n casi ma insomma ogni caso bisogna capire esattamente come si colloca però il tempo limitato è che il veritto dura 20 anni se vengono mantenute se vengono pagate le tasse di mantenimento se non c'è nessuno che fa che fa richiede un annullamento comunque il massimo è 20 anni questa detail public disclosure è sostanzialmente il diciamo quello che si chiede in cambio questo è un altro aspetto delicatissimo nel senso complicato però vi do un qualche accenno allora la logica del diritto dice ma perché io devo dare a un tizio un diritto di impedire agli altri di fare una roba cioè esiste questo oggetto qui no funziona è una cosa bella perché devo dire tu puoi impedirlo a tutti per 20 anni guardate che è molto forte questo qui è contrario a tutti i principi di libero mercato quindi è un'eccezione il brevetto è un'eccezione al concetto di libero mercato perché posso dare questo concetto questa roba qui perché io ho in cambio questo cos'è questo questo qui è il brevetto il documento scritto il brevetto al di là della proprietà è un documento scritto che io presento deposito e mi viene concesso o non concesso questo documento scritto contiene la descrizione dell'invenzione e la descrizione dell'invenzione deve essere tale per cui una persona competente di quella materia deve essere in grado di riprodurla è come una ricetta di cucina ok io ti devo scrivere una ricetta di cucina per cui se tu sei un minimo esperto di cucina leggendola sei in grado di riprodurla non me la puoi mettere vaga mi devi dire le dosi le percentuali i tempi di cottura tutte le robe perché la posso rifare esattamente se non è così io non te lo concedo ok quindi mi devi dire qual è il problema qual è la soluzione e come si fa a realizzarla almeno in un modo perché poi può essere che uno lo fa in tanti modi diversi e lì sta i trucchetti nella scrittura dei brevetti però deve essere tale per cui un esperto lo legge e dice si ho capito come si fa a farlo e quindi si chiama anche insegnamento l'insegnamento a realizzare l'invenzione perché serve questo per diversi motivi ve ne dico due credo abbastanza semplici il primo è perché io se voglio escludere qualcuno devo dire su cosa lo escludo se uno capisce cos'è sta roba qui come faccio a dire che lui mi sta copiando cioè devo dire esattamente cosa fa lui posso dire una torta devo dire la Sacher mi dico una torta sono buoni tutti no mi devi dire la torta ci ha messo la marmellata non ce l'ha messa non è la Sacher cioè devi dire esattamente qual è l'oggetto che tu non vuoi che venga copiato e qui è un po' anche il trucco il trucco perché se io descrivo una cosa molto precisamente uno la fa un po' diversa no e dice non ci ho messo la marmellata e la bicocca nella Sacher non è Sacher che la posso fare cioè cerchiamo di capire no è la marmellata che identifica la Sacher vediamo quindi la descrizione deve essere precisa perché se non è precisa io non so che cosa che cosa lui cosa devo escludere numero uno numero uno e questo diciamo è un po' tutela delle parti l'altra cosa è perché io devo consentire al resto del mondo di andare avanti e quindi io ti dico guarda ti racconto com'è fatta questa roba poi questa roba qui non la puoi fare ma se tu la migliori il tuo miglioramento è tuo quindi il progresso se no per vent'anni blocco ok questi sono i due macro aspetti che motivano questa roba qui e infine tutto questo vale solo e solamente per un'invenzione che è la soluzione di un problema tecnico non posso brevettare altro non posso brevettare un progetto un'idea una scoperta la soluzione di un problema tecnico quindi mi dici qual è il problema e mi dici qual è la soluzione ho inventato il cardine delle porte il mio problema è come faccio ad avere una porta che si apre e si chiuda ho inventato i cardini ok mi è chiaro va bene e dice ma io l'ho brevettato e ho inventato la porta e io dice ho inventato la finestra ma la soluzione è la stessa ma il problema è diverso ok allora dieci minuti ciò allora i temi sono uno ha fatto la sua invenzione voi state a fare ricerca fate ricerca avete trovato la soluzione la soluzione vi avete trovato quella del programma tecnico avete una possibile invenzione ho inventato il cardine della porta bravo la domanda è è utile? migliora qualcosa? chi può essere interessato a sviluppare il cardine della porta? qual è il valore potenziale? esistono delle alternative? domandiamoci queste cose innanzitutto perché se queste le risposte sono sì è utile migliora molto quello che esiste c'è un sacco di gente interessata può valere abbastanza in questo momento vedo pochissime alternative l'invenzione è un'invenzione forte se invece dice guarda si ho inventato invece ne metti due ce ne metti tre perché la porta è pesante l'ho fatta col vetro doppio ho messo ho invento di metterci tre guarda dopodichè dico l'invenzione la posso brevettare? ma guardiamo se serve il brevetto cioè mi serve un brevetto è utile il brevetto? cosa vuol dire è utile il brevetto? vuol dire che c'è qualcuno che lo vuol fare e io glielo voglio impedire? perché posso usarlo solo per questo quindi io sono in grado e posso impedire a qualcuno di sviluppare la mia invenzione? se lo posso fare allora è utile avere un brevetto altrimenti no c'è un'altra roba per avere un brevetto impedire che lo brevetti qualcun altro per esempio io magari non posso impedirlo a nessuno però se lo brevetto gli impedisco di brevettarlo perché l'ho già brevettato io quindi se non altro apro il mercato non ho un solo che uso voglio fare del brevetto? lo voglio usare per impedire? lo voglio usare per concedere il diritto di impedire ad altri? lo voglio vendere? lo voglio distribuire gratuitamente? devo capire cosa ci voglio fare? perché molti di noi diciamo facciamo un brevetto ma per farci cosa? per fare litigation con una multinazionale? dobbiamo capire a cosa serve perché a seconda di cosa serve lo scrivi in un modo piuttosto che in un altro per esempio chi sono i possibili utilizzatori? dove sono? quindi in che paesi brevetto? dove sono? chi sono? lo brevetto qui? lo brevetto là? perché lo brevetto in Italia per primo? facciamoci qualche domanda quando lo brevetto? immediatamente prima possibile? aspetto di aver capito meglio le cose? sono tutte domande alle quali la risposta non è facile e dipende caso per caso ma se non ci si fanno è possibile che si faccia qualche errore dopodiché supponiamo che yes and yes cioè ci faccia piacere questa è un'invenzione furba è utile potenzialmente brevettarla a questo punto dico la posso brevettare quali sono i requisiti? vado veloce questo qui non ve lo faccio vedere è un brevetto tipo per dirvi come è fatto un brevetto ma lo farà vedere sicuramente la spinar di domani vado invece brevemente ai requisiti giusto questo è un esempio carino per esempio non so come si fa a tornare indietro torna un po' indietro allora su questo domani tornerà ma volevo darvi subito l'insight allora il brevetto dà il diritto di sviluppare un'invenzione? no il brevetto non dà diritti di invenzione di escludere altri ok quindi io non è che col brevetto ho il diritto di farla ho il diritto di escludere quindi come si dice qui è un diritto negativo il titolare di un brevetto potrebbe non avere il diritto di fare la propria invenzione ok questo si chiama freedom to operate cioè un conto è l'exclusive right e l'altro è la freedom to operate cos'è la freedom to operate? è la possibilità di fare l'invenzione che io voglio impedire ad altri di fare e questo è il caso carino allora c'è un io ho brevettato un un bollitore con un elettrico con un riscaldatore fatto di un materiale ceramico particolare che consuma pochissima energia chiaro cos'è un bollitore elettrico l'ho molto sicuro a fare lì la tacca alla spina consuma pochissimo questo periodo andrebbe forte perché questa è la io ho brevettato questo il bollitore avanti avanti vado io ecco attenzione che esiste un tizio che ha il brevetto del bollitore allora io posso costruire un bollitore con questa roba qui no perché non ho brevetto del bollitore lui può costruire questo qui con questo qui no perché non ha brevetto quindi io posso impedirgli di fare questa applicazione lui può impedirmi di fare a me quindi quell'oggetto lì è bloccato per conflitto di proprietà quindi l'unica cosa che si può fare è trovare un accordo dico io ti do questo e tu mi consenti di fare il bollitore per la mia roba però io ho questo posso impedire ad altri di usare ma non ho il diritto di usarlo io non ho la freedom to operate chiaro? ultimo ultima slide allora un brevetto per essere concesso deve rispondere ad alcuni requisiti perché questo qui sufficiente descrizione l'abbiamo detto fa parte della legge la legge dice io te lo concedo se tu lo descrivi ok? è un dot des dopodiché non è che se cioè se tu lo descrivi è condizione necessaria perché se tu non lo descrivi io non so cosa è l'invenzione quindi non te lo posso concedere però una volta che tu me l'hai descritto io devo verificare se questa invenzione ha i requisiti per essere brevettata che sono tre il primo la novità la novità dice questa invenzione quindi la soluzione questa soluzione di questo problema tecnico non deve essere nota prima in nessun paese del mondo e questo deve essere documentato cioè non devo trovare nessun documento che la descriva in una data antecedente ok? non deve esistere nessun documento cosa vuol dire nessun documento? nessun documento accessibile al pubblico accessibile al pubblico mi dai due minuti faccio questa storiella qui perché è carina questa storiella la conoscete? no? questa storiella dice questo questa è una è una nave piegata su un fianco che sta affondando è un cargo nave di trasporto merci nel golfo di Kuwait City questa nave è affondata nel 1964 e aveva a bordo 6.000 pecore vive chiaramente affondando muoiono e le carcasse vanno in putrefazione e i Kuwaitiani prendono quell'acqua dal salino e la bevano e chiaramente è un disastro epocale perché non so per quanto tempo allora questa nave era assicurata da una compagnia di assicurazioni una compagnia di assicurazioni svedese no danese i quali devono trovare un sistema per tirar fuori le pecore rapidamente no? perché è un danno epocale si rivolgono alla BASF multinazionale eccetera loro chiede la BASF vada a questo signore che è un loro dipendente e dice trovaci un po' una soluzione per tirar fuori allora è chiaro il problema tecnico come faccio a tirar fuori una barca una nave affondata rapidamente bene lui ci pensa un po' e gli viene in mente questo oggetto Styropor che è stato brevettato da loro stessi nel 1950 che è un polistirolo espanso polistireno espanso quindi polistireno espanso voi capite è un oggetto che occupa un volume superiore alla sua massa no? perché è espanso siccome questo si espande a vapore lo portano lo portano il 98% di espansione quindi è sostanzialmente aria solida lo portano in palline 27 milioni di palline laggiù col vapore le gonfiano le infilano nella chiglia della nave e come infilarci l'aria e quindi la nave viene a galla ok? problema tecnico chiaro soluzione chiara brevettiamola vanno all'ufficio brevetti tedesco e l'esaminatore si ricorda di aver letto una storia di Paperino quando era bambino e gli viene in mente questa cosa lo va a cercare lo trova e trova questo questo fumetto del 1949 dove Zio Paperino tira fuori dal fondo del mare una barca di Zio Paperone utilizzando palline da ping pong e l'esaminatore conviene che questa soluzione era già stata proposta e che quindi non era nuova e il brevetto non è stato concesso allora è chiaro no? il problema è chiaro la soluzione è chiara e è evidentemente poi la stessa esiste una descrizione precedente sì del 1949 era facile arrivarci no questo uno dice una sfiga spaziale questo lui viene in mente che aveva letto vent'anni prima da bambino va a casa l'aveva conservati lo trova e dice non si può brevettare oh supponiamo che lui non l'avesse trovato cosa naturale avrebbe concesso il brevetto il brevetto però sarebbe stato nullo cioè in qualsiasi momento chiunque lo tirava fuori lo annullava ok non è facile che uno lo tirasse fuori però questa è la storia ok se uno lo tira fuori ti annulla il brevetto perché il brevetto viene concesso fino a prova contraria la novità è questa quindi warning l'ultima cosa è il salto inventivo il salto inventivo vuol dire che tu non devi brevettare una cosa ovvia anche se nessuno l'ha mai vista prima e anche qui chiudo con questa cosa ovvia questa qui cos'è questa qui è una teiera con due becchi cos'è una teiera con due becchi qual è il problema che risolve il problema che risolve è quello di versare più rapidamente il caffè in più tazze il tè in più tazze cioè tu hai devi versare a tavola dieci persone ne versi due alla volta quindi risparmi il tempo puoi inventare altre cose puoi per esempio allargare il becco no? e versi con più questa qui è una soluzione è chiara? problema tecnico tempo di riempimento di più tazze soluzione due becchi che devono essere alla stessa altezza perché vabbè quindi questo fin qui è tutto chiaro allora questo qui fa domanda di brevetto è nuovo? sì nessuno l'ha mai visto nessuno se ne ha mai il problema l'ha inventato lui per insomma ma è così in molti brevetti uno inventa il problema per trovare la soluzione comunque non ci interessa non entriamo nel merito l'ha fatto questa qui cosa dice che è un serbatoio per liquidi uno un manico due il tre i cosi come si chiama i beccucci due spout standing in front of the compartment uno dove la la cima di questi due sono alla stessa altezza questa è l'invenzione ma esiste? la risposta è no quindi la novità c'è ma c'è salto inventivo cosa vuol dire salto inventivo? vuol dire che un esperto messo di fronte a questa roba ha lo stesso problema come faccia a riempire più rapidamente le tazze? gli viene in mente la stessa cosa a un esperto? oppure no e quindi c'è un salto inventivo perché se io dico la porta pesa troppo come faccio? dice ma aumenta un cardine cioè vuol dire non è che sia un'invenzione è semplicemente se non se ne ha posto il problema ma di fronte a quel problema tutti trovano la stessa soluzione non è un'invenzione brevettabile è un'invenzione ma non brevettabile questo lo è allora guardate se uno dice ma cosa esiste? esiste la teiera con uno? esiste? sì quindi io posso partire da lì bene poi esiste questo oggetto qui trovo un documento che descrive un fertilizzatore a più becchi che quindi usa questa roba per fertilizzare lo trovo? vabbè poi esiste le macchine del caffè e dei bar che tutte hanno il doppio becco no? non vi viene in mente probabilmente però c'è l'esperto lo sa e poi esiste questa roba qui l'oliera l'oliera scetiera che ha il doppio becco sono tutte cose che esistono io non so non voglio dire utile o non utile allora la domanda è ma se io vedo questo e e ho questa soluzione qui di fronte a una persona esperta ma incapace di avere fantasia e gli dico amico tu che sei un esperto di teiere e ti faccio vedere queste robe qui e voglio aumentare la rapidità di riempimento delle tazze con la teiera cosa ti viene in mente? ti viene in mente quella roba lì se lui dice sì vuol dire che non c'è salto inventivo se dice no vuol dire che c'è salto inventivo questa roba qui è soggettiva lo decide uno esperto e non c'è versi tu poi puoi provare a convincere lo dici guarda no ma forse non hai capito bene ma è soggettivo mentre quello di prima è documentale o c'è un documento o non c'è questo è soggettivo è l'esperto e l'esperto è l'esaminatore dell'ufficio brevetti che dice ma scusami è una banalità questa via la conosco questa via la conosco metto insieme per me è banale quell'altro dice no aspetta perché questo è caffè questo è il concetto ultimo requisito è che sia un prodotto industrializzabile non posso brevettare una roba che non è industrializzabile un edificio non lo posso brevettare perché è uno non è industrializzabile non è un processo produttivo e quant'altro io direi che chiudiamo qui mi sembra di aver detto abbastanza cose non avete posso fermarmi ancora un attimo se avete qualche curiosità o domanda chiedo scusa sono andato un po' lungo lo so ma mi faccio prendere ma quindi il salto inventivo può anche avere fantasia applicare lo stesso metodo ma ha un problema diverso sì assolutamente sì ti faccio un esempio ma no non mi sembra una roba assurda nel senso ti faccio un esempio no 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 ma ci credo per carità però uno mi viene a rompere le scatole su doppio beccuccio su paperino io uso la stessa cosa ma trovo perché ho più fantasia e dico ma questo lo applichi di là e ci faccio un breve ti faccio un esempio reale c'è un tizio che ha inventato un carburatore sai cosa è un carburatore è un miscelatore di un liquido e di un gas che si usa normalmente nei motori a combustione interna ok quando tu apri gas entra più aria entra più carbura carbura vuol dire che trova la miscela giusta di liquido di carburante e di aria per quella roba lì si usavano i motori a aspirazione allora c'è un signore che ha inventato un carburatore particolarmente preciso ed efficiente l'ha brevettato per i motori a quattro tempi concesso a un punto uno dice ma io sto facendo i motori a due tempi non c'è scritto i motori a due tempi c'è scritto i motori a quattro tempi chiedo di brevettarlo la risposta è no perché non c'è salto inventivo esiste già quello semplicemente lo adopri in un'altra è uguale la risposta è no c'è uno invece che ha usato quel carburatore per fare una macchina che fa i gelati dove fai l'emulsione e usi il gelato e l'aria per fare l'emulsione e fare il gelato non la pasta quindi è un'applicazione completamente diversa che non cioè lì c'è un salto inventivo e quindi a questo gli è stato concesso lo stesso oggetto lo stesso oggetto per un'applicazione completamente diversa tu ritieni che questo sia sbagliato? ti ho fatto un caso un po' eccezionale però questo è il viagra che ti dicevo prima no? per motivi cardio piuttosto che motiviero cioè no grazie comunque possiamo discutere ma la legge dice questo esatto il segreto è puntare agli uffici brevetti di paesi poco inventivi o con poco cioè con l'esaminatore poco poco fantasioso cioè assolutamente no che non ha letto Topolino che non che non legge la letteratura esattamente il contrario esattamente il contrario e però se io voglio cioè potrebbe arrivare potrebbe se conoscesse bene l'ambito del mio studio arrivare a un'ovvietà che magari altrove se non conoscessero bene quello che studio o le proteine che studio potrebbero non arrivare prima di tutto il paese non dipende dal fatto che ti vengano concesso no paese nel senso no dipende dal fatto che tu voglia o meno depositarli in un paese perché lì vuoi difenderti ma non è così perché il brevetto un buon brevetto è un brevetto inattaccabile un brevetto attaccabile è un brevetto che non vale nulla soprattutto se devi allora se lo usi te fatti i tuoi ma se devi venderlo è come uno che compra una casa con i difetti con le robe dice guarda me l'hanno passata anche se l'altezza non è buona poi non la vendi non te la compra nessuno quindi il brevetto deve essere di qualità un brevetto schifoso no anche qui vi racconto una piccola storiella curiosa questo è successo due multinazionali io non mi ricordo il caso ma poteva essere facendo conto Samsung e Philips due grosse 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 a questo punto una delle due brevetta una roba che interessava a tutti e due quell'altro gli fa causa quello si difende e si vengono a scoprire che questo qui il primo aveva depositato in tutto il mondo meno che in Giappone sai perché? perché in Giappone esisteva già un brevetto scritto in giapponese che nessuno era in grado di trovare perché era scritto in giapponese era rimasto solo in Giappone quindi in Giappone c'era era scritto in giapponese non era stato mai trasferito e quindi solamente uno che sa il giapponese era in grado di trovarlo gli avvocati l'hanno trovato e quindi l'hanno annullato e quindi quell'altro non solo ha vinto la causa ma questi eccetera allora un brevetto farlocco anche se è farlocco perché l'hai nascosto è come quando tradisci la moglie insomma non esiste non esiste proprio è un concetto che prima o poi ti fregano devi devi assolutamente fare un brevetto di qualità tutte le strategie sono salvo che non sia una roba che non venderai mai a nessuno allora fa scriverlo che ti pare ma un buon brevetto se hai interesse a fare deve essere un brevetto di qualità questo è un caso assolutamente lo racconto perché tutti se lo ricordano e quindi funziona però è un caso assolutamente quasi ridicolo sì ciao buongiorno siamo già visti noi diverse volte ho seguito qualche corso al Politecnico quanto gli articoli scientifici possono ledere a novità e invenzione di un brevetto allora la domanda è intrigante nel senso che non c'è una risposta banale perché noi continuiamo a fare un po' di confusione naturalmente questo capita a tutti anche a me tra la conoscenza e l'invenzione basata sulla conoscenza allora normalmente negli articoli scientifici noi raccontiamo risultati scientifici non necessariamente la loro applicazione per risolvere un problema questo è vero molto per la scienza non è molto vero per la tecnologia allora uno che fa il fisico pubblica il lavoro sulla conoscenza di come funziona una certa roba uno che fa l'ingegnere molto spesso pubblica invece la soluzione quindi non esiste a priori una risposta è così o è cosa se nella pubblicazione scientifica è raccontata la soluzione tecnica che si vuole brevettare quella pubblicazione scientifica lede il requisito di novità per cui la risposta che si dà sempre è prima la deposita un brevetto e poi pubblica cioè qualsiasi cosa guardate anche una conferenza qualsiasi cosa della quale rimane traccia può essere utilizzata per annullare un brevetto per cui prima di fare qualsiasi cosa da cui può rimanere traccia depositate una domanda di brevetto punto non ci vuole tanto dipende dipende dalla complessità e dipende no insomma comunque è così ragazzi purtroppo è così è la legge prima si è fatto l'esempio del farmaco ed abbiamo detto che diciamo deve essere depositata una descrizione dettagliata una sorta di ricetta immagino che per i farmaci diciamo la parola ricetta insomma sia appropriata però poi quando una volta scaduto il brevetto tutti i genericati sono sempre diversi dalla formula originale perché non lo so ovviamente non lo so però attenzione questa cosa che dice in effetti anche questa si presta ad alcune riflessioni perché è possibile è possibile brevettare una molecola che ha delle funzioni quindi devi dire questa molecola avendo queste funzioni risolve questo problema così come posso brevettare il metodo di sintetizzare quella molecola che non è che è una cosa diversa no per cui la molecola ti puoi farla però non puoi farla col metodo che dico io ecco queste sono strategie diverse per tutelare per tutelare un mercato ok molto spesso appunto si cerca quello che si chiama il collo di bottiglia dell'invenzione anche qui c'è un caso interessante un professore del Politecnico che aveva inventato un sensore che serviva per identificare il tessuto cioè se è lana cotone sintetico seta aveva una delle caratteristiche di identificare i tessuti e l'aveva immaginato poi il brevetto voleva brevettarlo per metterlo dentro le lavatrici per far andare automaticamente la lavatrice si autosetta nel programma lui l'aveva sviluppato per altre robe come ti puoi ben immaginare però poi gli ha detto figata nella lavatrice siamo andati per depositare questo brevetto non ce l'hanno concesso perché esiste un brevetto di uno che dice se vuoi mettere un sensore nella lavatrice lo puoi mettere solo sul cestello aveva brevettato il posto dove mettere il sensore per cui tu puoi avere anche il sensore ma non puoi metterlo ok allora questo è molto tricky perché lui a questo punto quel tizio blocca tutto il mondo perché ti dice dove metti il sensore indipendentemente dal sensore io voglio mettere un sensore la lavatrice come faccio perché in effetti quello ruota non è stupida la domanda e lui dice ti di come si fa a metterlo tac questa è la soluzione a quel punto se vuoi mettere il tuo sensore devi usare la sua soluzione e non puoi quindi anche lì su queste robe è molto tricky la cosa bisogna capire qual è il motivo con cui vuoi bloccare gli altri molto spesso è diverso da quello che ti immagini te io avevo un'altra domanda qui dietro si riferiva all'argomento di prima quindi idealmente se c'è una scoperta scientifica eccezionale ma viene pubblicata e non viene brevettata questa non può mai portare a innovazione perché nessuno investirà dei soldi se non è protetta da brevetto o c'è una soluzione parli di scoperta o parli di invenzione scusa perché c'è se c'è qualcosa che viene pubblicata senza un brevetto quindi non so diciamo una tecnologia o un farmaco quindi una volta che viene pubblicata quindi questa molecola questo farmaco nessuno può più brevettarla perché non è nuova e già in una pubblicazione quindi nessuno può nemmeno svilupparla portarla sul mercato perché vorrebbe dire assumersi un rischio non protetti da brevetto detto così la risposta è sì esattamente come dici dopodiché sicuramente hai ammazzato gran parte del valore dopodiché c'è del valore anche nella realizzazione delle cose non solo nel sapere che esiste quindi dipende quanto è difficile realizzarla perché l'investimento è anche nella soluzione per realizzarla cioè vuol dire il caso della molecola è importante se tu fai una molecola e dici questa molecola fa questa roba qui però la pubblichi nessuno può più brevettarla però solo uno sa come si fa a sintetizzarla per esempio no? quindi dipende dipende molto da cosa hai divulgato anticipatamente rispetto al processo che ti senti di portarlo sul mercato ci sono alcuni temi che hanno a che fare per esempio con i tempi uno che lo porta prima poi conquista il mercato e poi raccontarlo a tutti ci sono dei casi storici la coca cola è il caso che si dice sempre nessuno sa non è brevettata ma nessuno sa come si fa a farla tu puoi prenderla fai tutte le analisi che vuoi trovi tutte le molecole che ti pare ma nessuno è in grado di farla è vero? non lo sa nessuno perché è un segreto quando uno dice è un segreto chiaramente non puoi sapere se è vero o no perché è un segreto comunque sì se tu scrivi una roba quella roba che scrivi se è un'invenzione non è più brevettabile da nessuno quindi è libera l'hai liberata quando tu non ti sai difendere con un brevetto pubblica almeno sei sicuro che nessuno lo brevetterà prego per quanto riguarda l'aspetto di brevettare semplicemente per evitare che altri sfruttino una determinata tecnologia soprattutto nel campo del life science io mi chiedo non c'è un aspetto immorale in tal senso cioè ad esempio brevetto un processo semplicemente perché io sto utilizzando un approccio alternativo per trattare una determinata patologia ma non voglio che un competitor utilizzi una tecnologia che io comunque non voglio sviluppare perché sto facendo tutt'altro in questo modo non si ammazza un possibile approccio per un trattamento terapeutico quindi scusa brevettando per impedire che altri lo brevettino esatto però nel frattempo sviluppare una totale altra tecnologia semplicemente per fare in modo che non ci siano tecnologie alternative che io non sono neanche intenzionato a sviluppare per trattare quella terapia allora quindi provo a impedire ad altri che lo facciano sì cioè lo brevetti per impedire ad altri che lo facciano ma non lo faccio neanche io perché voglio fare l'altro questa cosa non si può per legge esiste una clausola di salvaguardia chiamiamola così sui codici che dice che passato il tempo necessario per il possibile sviluppo industriale normalmente è anche definito ma insomma lasciamo perdere passato il tempo necessario se non c'è se non c'è uno sviluppo adeguato alla possibile richiesta di mercato tu sei obbligato a concedere licenza si chiama licenza obbligatoria e la licenza obbligatoria il valore della licenza obbligatoria viene definito da un tribunale quindi tu non puoi impedire se non usi addirittura non puoi impedire se non usi a sufficienza cioè suppone che tu lo produci ma lo produci in maniera limitata rispetto alle esigenze non puoi impedire a altri di riempire quel gap lì proprio perché non è una questione di moralità è una questione di anomalia della legge che la legge appunto la legge ti autorizza a fare soldi non ti autorizza a impedire per impedire sì non posso comunque dire che ci sto ancora lavorando per sviluppare e che non è ancora devi dimostrarlo non puoi dirlo devi dimostrarlo devo dimostrarlo sì cioè i casi di licenza obbligatoria non sono tanti come potete immaginare perché normalmente se uno c'è un brevetto che fa robe interessanti per il resto del mondo quantomeno glielo vendi perché insomma ci fai soldi senza fare nulla è come Lucio Battisti è fatto una azione una volta e tutta la vita porti a casa le royalties quindi è veramente un brevetto non utilizzato che interessa a molti è un patrimonio sprecato però in effetti ci possono essere delle strategie commerciali per cui preferisco ammazzare te che far soldi io intanto mi sono tolto non si può questo è il caso anche dei claims nel senso che posso appellarmi al fatto che tu nel brevetto abbia coperto quella scoperta per una serie infinita di patologie ma per cui tu non per tutte abbia risultati per cui rendi evidente il fatto che quel processo la domanda è molto complicata quindi sarò rapido non so se tutti hanno capito cosa lui sta dicendo sta dicendo che una parte fondamentale anzi la parte fondamentale del brevetto sono le rivendicazioni o claims le rivendicazioni sono quando io nel brevetto dico io ho inventato questo questo e questo e rivendico come diritto esclusivo uno che fa questo questo devo descrivere esattamente che cosa io rivendico come diritto esclusivo perché posso raccontare un'invenzione per esempio quello lì prima del bollitore lui racconta il bollitore dopodiché non rivendica il bollitore rivendica solo quel circuitino che sta lì dentro quindi dici io ti ho descritto l'invenzione rivendico questo questo lui dice ma se uno rivendica tutte le possibili applicazioni e poi ne usa una sola io lui è obbligato a darmi licenza esclusiva licenza obbligatoria del resto allora teoricamente non esiste questo caso perché un brevetto per legge può coprire una sola invenzione quindi non può avere un brevetto scompiù invenzioni può avere un brevetto di una sola invenzione quindi il caso come lo descrivete teoricamente non è possibile dopodiché quella invenzione può però avere delle forme diverse io dico guarda io brevetto il cardine per un oggetto che si apre che può essere una porta o una finestra però non ho brevettato sono esempi io dico una una struttura rettangolare in parte in legno o in metallo con una parte in vetro eccetera eccetera che devo poter far aprire ruotando sopra un asse ho descritto questo oggetto poi faccio un esempio per esempio una porta per esempio una finestra per esempio un garage per esempio la portiera dell'automobile per esempio la cassaforte e mi vengono in mente n applicazioni ma perché non ho progettato quello lì ho progettato un sistema eccetera se non ho un sistema generale e devo descriverne due sono due brevetti dopodiché bisogna capire il caso puntuale però diciamo quello che tu dici è un'ipotesi è un'ipotesi teorica diciamo eccezionale che a me non è mai capitato ma insomma può darsi che possa capitare in quel caso la risposta è sì è un'ipotesi